Yogurtino! Anche io ho mangiato lo yogurtino, ho mangiato lo yogurtino bianco magro con cornflakes e mandorle. Molto triste. Buongiorno! Oggi grande giornata, fammi togliere subito i bara perché devo giocare solo personaggi rotti, quindi oggi si main a Todoroki direi, che ho startato ieri. E tanto Panditz main a Deku, quindi mi lascia il suo ex main, diventerò io il main Todoroki più forte del mondo. Un'ora di ritardo? Beh no, sì, insomma, c'era le 16.30 all'appuntamento, io sono alle 16.31 qua, un minuto di ritardo, me ne dispiaccio veramente. Oggi è un grande giorno perché potrò fare una pesca, forse. Sono a 75, più i 5 delle giornaliere arrivo a 80. Eh no, non è vero, è un prank, mi sa che non posso. Stagionali. Settimanali. Se faccio tutte le settimanali, sì. Eh, tutte le settimanali le dovrei fare. Eh, però quella dei villain, no. Eh, dai. Dai. È fattibile. Aiuto o minaccio a Cota? Chiedo gentilmente ai miei teammate di lasciarmi Cota, ho fatto la barba. Sì, finalmente. Ciao Jake. E sì, eh sì. Ho dovuto fare prima con la macchinetta, poi con la lametta perché era cresciuta troppo. E sarà la pool decisiva perché troverò Kirishima. Ti invito, Pandits. Vediamo com'è messa la top. Sarà deprimente, deprimente. MVP? 1700. Mannaggia. Bisogna fare un sacco di punti. Non si giocano personaggi bilanciati oggi. Oggi zero personaggi bilanciati proprio. Oggi zero PG bilanciati. Solo partite con personaggi rotti. Vietato usare personaggi diversi da Bakugo, Todoroki e Midoriya. Però Bakugo mi sento troppo sporco a usarlo, quindi userò Todoroki, che è rotto quanto Bakugo, ma nessuno ne parla, quindi i main Todoroki non vengono insultati così tanto. Quindi perfetto. Oggi vietato fare partite sotto ai 5000 danni. Però non c'è Davidotti, Davidotti sarà online su Apex, stava nerdando ad Apex prima, adesso avrà la scusa che deve andare in palestra, palesemente. Terribile. No, infatti ha già spento. Eh, no, Todoroki è più rotto di Bakugo. Ma secondo me, Erk Fran, per favore. Erk Fran 2016, che sarà effettivamente del 2016. Via. Non si ruba il main, Pandits. Ciao. Ciao. Ti ho difeso, ho cacciato quello sporco. Via, basta. Erk Fran, levati dai coglioni. Non hai capito. Ciao. Hai visto il mio grado? Profilo. Fuori classe. Ma che top sei? Beh, abbiamo trovato un main Bakugo, abbiamo fatto il team, perfetto. Facciamo che giochiamo solamente con main Bakugo oggi. 585esimo. Eh, ma Pandits, secondo te essere main Bakugo e avere 0,63 di rapporto KO inflitti subiti, com'è? Eh, grave. E allora lo cacciamo e ne cerchiamo un altro. No, perché io non voglio... Ciao. 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 Non voglio giocare con compagni sotto al professionista 3. Perché oggi veramente non voglio andare in negativo mai, voglio fare tanti punti, non voglio tiltare. Professionista 1 anche questo. Però questo KO inflitti subiti 1,20. A me lo schifo ieri. A me... Ciao Marco. A me ieri lo schifo, minchia. Boh, solamente compagni che quittavano, che facevano cagare main Bakugo con 0... Perché quittavamo ieri. Sì, perché non ero recuperabile perché era glitchato il banner, però vabbè. Sì, sì, tossico. Tossico. Mi trovavo figa ieri i main Bakugo con 0,12 di rapporto KO inflitti subiti. Boh, nel senso, cioè giocare Bakugo e avere 0,12, boh, è... Molto grave. Boh, spara da solo. Basta che cammini a caso premi R2 e le kill le fai. Non capisco. Non riesco a capire. Però ieri mi è molto piaciuta Ibarra. La main ero dopo che avrò finito di mainare i personaggi rotti per salire di grado. Io tra poco sblocco All Might. Mi mancano tipo 2000 punti esperienze. Vabbè, ma tu sei tipo la persona al mondo con più ore su questo gioco. Ma... Secondo me sì, cioè... Nel senso... Andiamo a vedere le ore di gioco di Panditz. Prova a indovinarle. Ma è puggato. Prova a indovinarle, prova a indovinarle. Ma 40. Sì, Panditz, sì. Ne hai 61. 61. È puggato. 61 ore di gioco. Il gioco è uscito il 28 settembre. Va bene. Una media di tipo 5 ore al giorno. È ok. Va bene. Non è vero, ma ne ho mai detto bene. Va bene. 61 ore. È puggato, è puggato. È puggato. È uscito il 28. Va bene. È puggato, è puggato. Va bene, Panditz. Va bene. Frana. È da PS3, mi sa. Ha caricato dopo di te e sarà da PS3, da PS2. PS3, tre quarti. È da PS3 e mezzo. Sì, con questo team va male la partita, ma ora che tu sei fenomeno ci trova le lobby più difficili. Boh, ho giocato fino adesso, non mi sembravano difficili. Va bene. Non ci ho giocato fino adesso, ti aspetta un'ora fa, ho giocato un'ora da sola. Beh, ci sta. Beh, sì. Ma perché mi colpiscono attraverso i muri sempre? Io non riesco a capire sta roba, ti giuro. Tu devi carriare perché sei riscaldato, hai fatto anche il... Il professionista, il fenomeno, nel senso... Boh, io non capisco. Non capisco. Ma lei se ne ha fatto uno. Ah! Vabbè, a parte che non sono neanche me in Todoroki, quindi non ci sta che non capisca. C'è un Todoroki da me. Quasi crack. Eh, però arriva un altro team da dietro, non mi piace. Nel caso a me piace. Eh, ma a me non piace proprio per nulla. Eh, arrivo verso di te allora. Eh, sì, verso di me. Eh, vabbè, dai, delle cure ce le ho. Quindi... Sì. Beh, è molto buono. Sì, è molto buono. Ottimo quasi. Però mi mancherebbero delle cure vita. Eh, sì, è pure di... C'ho uno Shigaraki. Aiuto. È proprio da me, è sopra di me proprio. Aiuto! È un temibile villain, mi dovrei allontanare da lui. Non lo so. Cioè, sì, mi sembra un lupo solitario per ora. Per ora mi sembra un lupo solitario. Poi non so, eh. L'ho congelato. Cavolo, c'è anche un Bakugo, però. Bakugo quasi traccato. C'è un crackato. No, c'è un altro Todoroki. Vado indietro. Però boh, le abilità... Eh, sì, le abilità di Todoroki comunque hanno meno auto-aim di quelle di Bakugo. C'è anche un camminare. Si vede che non sei main Todoroki. Eh, sì, ma cavolo, è tipo la mia seconda partita con lui. Vabbè, però non è difficile tornare Todoroki. Ma no, no, assolutamente, però... È comunque la mia seconda partita con lui, quindi... Ci c'è anche il Todoroki là? Beh, l'ho distrutto. Questo Todoroki l'avevo distrutto, eh. L'ho traccato un po'. Distrutto di nuovo? Sta scappando tantissimo. Però ha anche i compagni qua davanti. Vado? Non è stilla, lo so io. Sì, mi servirebbero delle cure vita. L'ho traccato il Bakugo. Eh, non ci sono cure vita. No, l'ho usato il teammate. Tossico. Qua davanti era. L'ho traccato. E se arriva da me, lo faccio. Faccio due hit, tecnica Panditz. Visto che con lui posso, a quanto pare. Ehm, vado a prendermi questa. Decisamente anche, dirai. Eh beh, sì, decisamente conosco la seconda mossa con L1, sì. Davanti a me c'è lo Shigaraki ancora. È sempre quello di prima, molto antipatico. Ha noccato il mio. Ah. Ma che stava facendo? Ah, il mio fighta. Ah, non è in safe. Allora, arrivo. Tu la cura. Ok, ci sono. Ci sta. Io ho un botto di power up per te. Ah, se vuoi, dammeli pure. L'ho congelato. Toccato. Bella tattica. Grazie. Però ho bisogno di cure. Vita. No zero. Toccato. Eh, mi devo curare. Mi devo curare. Ma uno l'hanno già rissato, mi sa, eh. O no? Eh beh, io ne ho visti due vivi Panditz. Ne hai noccato uno solo, mi sa. Perché l'All Might era vivo, quello dietro era vivo, quindi sì. Ah, ho i power up per... Ho tre power up a livello 2 per te. C'è, assurdo. Eh, sto pushando una sui. Se ci pensi è assurdo. C'è, anche se non ci pensi è assurdo. In ogni caso è assurdo. Ma questo qua mi sta mancando tantissimo. Dove cazzo è? Vabbè. No, è scappato da tutto. Sì, ma c'è gente più o meno ovunque. Io mi tolgo. Eh. Eh. Vabbè, che fastidio ho, isotto. Su io. Su io. Sì, su io. Sì, io vorrei lasciarti... Ok, ma io ti... Sì, il Mr. Compress è la sopra che lancia cose. Ti ho lasciato tre card di livello 2. Sono molte. Cioè... Sono veramente tante. Ciao, Tony. Ciao, Nicole. Arrivo, eh. Ho fatto il Compress. E ho lasciato il Compress. Ah, pensavo ho fatto. No, cazzo. Ho lasciato l'Ulbite. Che mi sei salito. Ma no. Sì, stai con alerta. Siamo tornati. No. Ehm... Ah, bella la cura di gruppo. Chi? Chi? Todo Rocky. Shigaraki da me. Caccato. Flash. One shot. No. Da un ato, lo prendo. C'è anche un Bakugo, però. C'è un'altra cosa. L'hanno arrestato, ma è one shot di nuovo. È morto di safe, forse. Sì. Sono morto. Mi riesce a fare una cura di gruppo? Ehm... Sto facendo. Cazzo mio. Ok, ci sono. Ehm... 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 Volevo fare la tecnica Panditz. Ho dato un colpo solo, però. che l'ho già tirato tre colpi. Eh, ma non lo so. Però, sei veramente tossico. Noccato il mio. Tieni un'altra di livello 2. Ma questo è l'allmate di prima. Era distrutto prima. Noccato l'azuyo. Noccato l'altro? Beh, tu prendi l'azuyo, io prendo il mio. Tutto perfettamente bilanciato. L'abbiamo vinta? Minchia che bella partitina. Metteranno altre modalità, tipo anche in singolo. Può sempre essere. Beh, in singolo sarebbe veramente brutto, cavolo. Cioè... 24 Bakugo non li vorrei vedere. Nel senso. Ti immaginati le partite in singolo con 24 Bakugo. O comunque, vabbè, su 24 persone almeno 15 Bakugo, tipo. 5.000 danni, 6 K.O. 4.000 danni, 5 K.O. Beh, 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 dai. Come prima partita, non male. È finita la licenza, quella gratuita. Però, cavolo, si sale veramente lentamente. Cioè, nel senso... Man mano che sali fai sempre meno punti, ma ne fai veramente pochi, cavolo. Ma adesso ne ho fatti 1.100. Ma perché? Ma scusa, io ne ho fatti 700. E comunque avevo praticamente gli stessi danni tuoi. Cioè, 1.000 danni in meno. 1.000 danni, 5 K.O. No, 6 K.O., tipo. 5, 6 K.O. Ah, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Ah, sì. Cerchiamoci un altro Bakugo. Sì, penso che nelle solo su 24... Cioè, se dovessero mai metterle solo su questo gioco, su 24 persone almeno 20 Bakugo ci sarebbero. E sarebbe veramente brutto. Non le vorrei giocare. Cioè, a me sarebbe veramente brutto e non le vorrei giocare. Vernolopia. Facciamo una veloce review. Professionista 1. 1.46. Va bene, lo accettiamo. È veramente poco giocando Bakugo. Cioè, conta che noi abbiamo quasi tre giocando non Bakugo. Lui ha 1.60 giocando Bakugo. È comunque parecchio poco. Ma è tipo la mia terza partita con Todoroki. Che cazzo stai dicendo? Ho livellato gli uffici al 12. Grande spiri. Quindi abbiamo un altro posto in agenzia. Un posto libero per chi vuole. Sarà già occupato, probabilmente. Ah. Ho guardato prima che entrassi in lobby. Eh, ma perché ieri ho fatto un bel po' di pulizia. Ma devi farlo ancora perché c'è tipo gente AFK da due giorni. C'è tipo... Tipo Steggich. Bella, ma te. Tipo Steggich. Sono ciao quattro giorni, non va bene. Eh, Gix, sono ciao... Eh, esatto. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Magari lo chiede, crede di riuscire. Ma è certo, certo. Cioè, la descrizione dell'agenzia è due days off uguale kick. Ma non è fatto, c'è. Comunque è bellissima la tattica. Tu congeli, io distruggo. Eh, minchia. Strabello. Sì, sì. Ma infatti, secondo me, la cosa più rotta dei Todoroki è proprio il... Cioè, quando li congeli, è troppo rotto. Tipo anche quell'All Might alla fine che stava per saltare. Minchia, l'ho congelato, gli ho annullato il Quirk e l'abbiamo scopato. Nico, guarda il gruppo Telegram. Ok. Ok. Eh... Ma tu sei quello a sinistra? Ah, no, tu sei quello a destra, ok. Ops. Beh, beh, beh. Vabbè, dai, è morto allo start, poveretto. Zero danni in un minuto, dai. Poveretto. Poverino. Comunque giocare Todoroki e Midori è veramente bello, perché così ci possiamo sempre cercare Bakugo come terzo. E abbiamo sempre il team rotto. Sì. Non che ci voglia tanto a cercare Bakugo come terzo. Finora non c'è entrato neanche uno che non avesse Bakugo. Vabbè, ma quello c'è a Kirishima. Ma è entrato sotto al terreno, tipo. Eh, era guasciuto il Kirishima. Eh, ne stavo un secondo o l'altro. Ci sta. Per carità. 74 flash. Eh sì, non capisco dove sia. Daunato il Kirishima. Provo a confermarlo subito. L'ha già rissato. Con quanta vita lo resta? Eh, ancora un calcio nuore. Reso? Ora mi sa che non lo resta più. Ma la Tsuyo o Kirishima intendevi? Boh, vabbè. Mi dispiace, Timmy. Ma perché? Ma Panditz, tu che sei un esperto, sei a grado fenomeno e tutto il resto, no? Mi sapresti spiegare perché ogni tanto le finisher non ti danno lo scudo? Tipo in questo caso. Eh, perché ho un gioco fatto col culo. Ah, ok. Cioè, perché è stato veramente strano. Cioè, gliel'ho fatta, non ha quittato. Però non mi ha dato lo scudo. Doveva infatti fare già un aggiornamento, doveva aggiustare un po' il po'. Cioè, perché, cavolo, boh, eh. Ma perché, brother, già hai? Mannaggia. Ma lui l'ha preso un cappavo? Tieni, Panditz. Perché non gliel'ho rubato. Che tossico. Eh no, scusa, cioè, non mi interessa. Non si va. Eh, ops. Vado a prendere quella cassa. Non si sa mai. E infatti ho trovato un power-up. Ok, arrivo a prenderla. Cioè, nel senso, la carta del respawn. Ah. Io ho una card per te. Tieni. È quella di Kendo. Grazie. Sono Midoriya. Vabbè, però Kendo è molto bella. Oggettivamente, grazie Marco per la resab. Io ho l'abilità al 5, non male. Cioè, comunque, dai. Posso prendere questo? Posso prendere questo? Io vado... No, vado a foca. Eh. Ho trovato uno zaino. Molto bello. Minchia, ieri il mio compagno di classe mi ha detto che Bapugo fa cagare, come a livello di... Ma a livello di personaggio o di gameplay su Mayr Ultra Rumble? Personaggio... Concordo. Fa veramente cagare. Non è vero, cioè, è migliorato un fottio, cioè... Minchia, io mi devo passare dalla gente che non guarda fino alla fine le cose e giudica. Cioè, sei giusto. Eh. Avesse visto finire Mayroth Academy... Beh, anche perché non è ancora finito. Ah, ok. Però per ora già è migliorato un sacco, cioè. A mio avviso, ovviamente. Oh, questo? Level 1. Arrivo da voi. Con relativa calma. Cioè, tanto... Non ne avete bisogno. Uh, ha trovato Kota. Abbiamo traccato i due. Ho traccato i due. Abbiamo colpito il Bapugo poco, però. Si è salito di qua. Eh, ovviamente. Cioè. Craccato il Bapugo. Knockato. Godo. Ma io apro la cassa. Ok. La cassa quella bella. Ma il nostro compagno ha due tessere respawn. Mi sembra esagerato. Vabbè, non si sa mai. Ci sta. Sì, ma mi sembra esagerato. Hey. Cioè, cavolo, spero che non faremo così cagare. Level 1. No, per ora no. Cioè. Oh, è questa? È una squadra più rotta del gioco. Eh. Level 1. Hey. C'è un po' di roba qua. C'è uno zaino molto bello. Delle cura. Cioè, ti sei aperto tutto da solo. Eh sì, ho preso tutto. Tutti i power up li ho presi io. C'ho l'abilità quasi maxate. Che bello. Che bello. Sì. Era una battuta. Ah, non era una battuta. No, no, ce l'ho veramente. Caspita. No, c'è Saiyan Blue che ha fatto una kill. Molta paura qua davanti. A piazza centrale. Comunque è bello vedere sempre gli stessi nomi nelle rose. L'hai già visto, Saiyan Blue? Straccata tu io. Straccata. Grazie per non aver fatto il torochi, però. Downato il Todoroki. Te lo lascio. Io ti ho avuto a mettermi due hit per fare i danni. Beh, ci sta. Ma hai lasciato un botto di power up là, Panditz, eh? Attento. Ma io ho l'abilità maxata. Tutte? Ah. 9, 8, 4. Io ho 9, 6, 9. Per bacco. Straccato. One shot. Sì, via. Nooo. È l'Azuyu scappa, mi sa. Ho mancato Midoriya. Va bene. Ma l'Azuyu è qua dietro. Fuori da mio. Sono anche il lato. One shot è Bakugo. Dai, che falla. Eh, io l'Azuyu non la prendo più, purtroppo. Ho mancato il Bakugo. Lo fanno anche lì. Ho anche un Todoroki da me. Arrivo da voi. Eh, Bakugo... Vabbè, sì. Te ne ho postilato a una inizio game. Tappo dovevi anche prendere. No. Todoroki e Tzuyu qua c'erano, eh? Eh, Bakugo, Deku e Tzuyu. Io ho fatto il Deku e il Bakugo. Eh, qua c'erano Todoroki e anche Tzuyu. Todoroki qua davanti a me. Quasi craccato. Tocca inseguirlo. C'è andato di qua. Andate in più giù oltre. Ti ha distrutto. Beh, oddio, dai. Caccavo. Caccavo. Dai, lo lasciamo a lui, a peccato. Ma cavolo, lui si sta prendendo molti più kill di me adesso. Cioè io non ho solo due. Questa qua me l'ha rubata, ci stai... Ma no. Ma non te ne ha già rubata una, scusa. Non lo so. Craccato, vittoria. Daunato. No, però tilto, pandezza. Però basta, però, eh. Ah, ma è stato ressato, ridaunato. Daunato, ressato, daunato un'altra volta. E provo a rubarmelo lo stesso. Cioè mi sembra esagerato, però così, eh. Cavolo. Cioè, mi sembra veramente esagerato. Sta un po' esagerando questo Bakugo. Sì. Cioè... Cioè... Sì, è veramente odiosa. Va dietro, va dietro. Ah, ma minchia. È un full team. Ah, l'ha responato. Su, gliel'ho appena. Daunato di nuovo uno. Minchia. Cioè. Sì. Ma uno è scappato verso di me. Uno ce l'avete voi? Ah, è l'ultimo, era da me. Arriva. È a Tsuyu l'ultimo. Eh, sì, ma non... Cioè, è Tsuyu, quindi ciao. Non so dove sia ora. Io direi di farlo restare di nuovo. Sì, 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 ci starebbe. Glielo facciamo fare. Faccio farlo morire. Ah, no, è un Bakugo. Ah, ebbè, vabbè. Può restare anche se è Bakugo. Nel senso. Non lo so. Questa gliela voglio rubare. Eh, anche io, anche io, infatti. Quanti K hai tu, Nico? Io ho quattro. Allora lo lascio a te. Però lo deve daunare lui, così glielo rubiamo e tilta. Sì, ovvio. Ma non è che magari li respawna veramente se aspettiamo? Adesso sarebbe meglio, in realtà. Eh, appunto. Glielo scrivo? Non c'è ancora di gruppo? Ma, se vuoi. Eh, ci proviamo. Eh, ci proviamo. Mi sa che ha già rispawnato. Vedo un Bakugo. Eh, ma il Bakugo era lui. Non so solo il Bakugo. Sì, sì, niente. Eh, ci ho provato. Glielo ho scritto, però non penso che lo farà. Non me l'ha già uscito. No, vieni da me. Cioè, stiamo qua. Secondo me è rispawn. Diamogli le card, pandiz. Lasciamogli le card in giro. Lasciala. Droppala. Droppale le card. Che schifo. Però aspetta che tu le... Cioè, ne mollo una in safe, allora. Ma lui mi sa che è morto di safe. Ma no, dai. Ah, sta rispawnando, sta rispawnando qui, Nico. Ma faglielo finire, però. Sì, l'ha finito, l'ha finito. Daunato? Dov'è finito? Pandiz, sei tossico, però, eh. Tu ti sei preso quello fuori safe. Ma non è vero. Chi è che sei preso quello fuori safe? Eh, non io, Pandiz. Cavolo. Cioè, poi hai detto anche che me l'avresti lasciato. Sei stato molto tossico. Io te l'ho lasciato. Ma non è vero. Hai preso quello fuori safe, tu? Ma no, ma se stavo sparando a lui, come ho fatto a prendere quello fuori safe? Eh, ma qualcuno ha acceso quello fuori safe. Io mi aspettavo almeno... Eh, vabbè, ma ovviamente non sono stato io se io ero là a sparare a quello. Come faccio ad aver preso quello fuori safe? Vabbè, ma anche lui stava sparando a quello. Cosa vuol dire? No, non è... Cioè, sei stato tossico. Mi hai proprio rubato la kill code da una tuoi o venendo a dare l'ultimo colpo. Cioè, me ne ricorderò. Vabbè, guarda la tua positiva. Beh, sì, me ne ricorderò, però. Cioè, non posso dimenticarmi di una cosa così grave. Qual è? Ecco, ho fatto... Ho aspettato un'ora. Eh, ma io ho fatto più 300 adesso in sta partita. Cavolo. Ma non è impossibile. Quanti danni hai fatto, scusa? Eh, 3000. No, ho fatto più 390, tipo. Eh... Eh, pandiz. No, sei stato veramente tossico. Ma sei il tipo il PG più rotto del gioco. Ma sei tossico. Cioè... Ma usa Bakugo più tossico. Ma sei... 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 Non riesco a giocare neanche con il tuo oro che è grave. Ma sei fisso a rubarmi tutte le conferme, però. Cioè, sei veramente tossico. Cioè, cavolo. Ah. E infatti è lo stesso di prima, l'ho già espulso. È lo stesso di prima. È godo. È sempre lui, Kevin. Kevin, non vogliamo giocare con te, per favore. Smettila. Eh... Povero Kevin. No. Non vogliamo giocare con lui. No. Eh, Kevin... Be-Wolf. Tutti Bakugo, cioè, assurdo. Com'è lui? Non lo so. Professionista. Va bene, lui va bene. 64 di KD. Ma lui va abbastanza bene. Minchia, quasi 3 di KD, voglio dire. Beh, questo è un bel team, allora. 3 killer random. Esatto. Quindi ce le ruberà tutte. Quindi sai già che... Eh, ma no. Facciamo i tossici prima noi. Sì, sì, sì. Ciao, vado a prendermi un dolce. Ciao. Assolutamente. Mi mancano pochi biglietti. Devo finire le settimanali. Che palle che mentre cerca la lobby non posso vedere quali sono le sfide settimanali. Sarebbe veramente bello. Perché io oggi devo fare la pool con cui troverò Kirishima. Anche perché domani tipo scade il banner. Quindi non c'è più molto tempo per trovarlo. O per trovare qualche doppione per avere il ticket per prenderlo domani. Domani o dopodomani? Forse dopodomani. Ciao, sono andato a prendere il dolcetto. Ciao. Può essere Ricky. Mi piace il dolcetto. Cioè, se arrivi... No. Se arrivi prima che arrivi Davidotti, sì. Cioè, anche perché penso che Davidotti non arriverà. Perché è veramente un infame. che gioca ad Apex. Ma con i random stanno andando veramente bene. Perché dobbiamo rovinare tutto? È vero, concordo. Stanno andando molto bene con i random. Cioè, abbiamo fatto due vittorie di fila. Adesso anche la terza, probabilmente. Anche perché è difficile perdere comunque usando questo team. Cioè, sarebbe grave. No, quello è un land di merda. Andiamo ad area frana che è il miglior land. Beewolf. Mi dispiace. L'and ha splittato lì. Questo dolcetto. Godo. E Beewolf s'attacca. Madonna, io spero che... No, niente. Ciao, Kratos. Ciao, Kratos. A parte che Davidotti prima ha scritto che... E Pandis, puoi fare un po' più lontano dal microfono? Grazie. Ci sono quattro Bakugo da noi. Cinque, sei, set... Otto Bakugo. Tutti i team hanno Bakugo. Easy. Fightiamo. Che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare se non combattere? Davanti a me c'è... Un Bakugo. Niente, son morto. Minchia Midoria, che palle. Vado un attimo di qua, perché c'è uno scudo. Non ti ho neanche sparato, perché mi dici che palle? Ma no, insomma... Mi ha tipo distrutto. Ma io non ti ho sparato. No, no, l'altro Midoria, non tu. Ah, no, no. Penso ce l'avessi con me, che spagno. B-Wolf è morto. 2,64 di KD. Non mi so. Eh, adesso torno. Cioè, vieni tu da me, in verità. Tanto lui quitterà adesso, Minchia, Kratos. Tossico. Sto arrivando. Ma si rianima, si rianima, si riuscire. E' one shot. Il Bakugo. Preso. Sì, ma l'ho distrutto. È scappato perché l'ho distrutto. Più che altro ho fatto una grande giocata. L'allmate l'aveva preso sulle spalle e io l'ho congelato. L'ho distrutto. Il Bakugo è caduto per terra. E sono riuscito a confermarlo. Minchia. Eh sì, ma d'altronde sono mento d'orocchi. Chi ha detto che volmente è tipo rottissimo, ma tanto tanto. No. Tanto tanto. Secondo me no. Ma lui sta ancora a frana. Vabbè, buon per lui. Vabbè, one shot. Sta girando one shot. Sì, vabbè. Però ha salvato un civile, quindi dovrebbe avere una cura. Esatto. No, non aveva proprio. Oh, questo. Però oddio, andare dove c'erano atterrati dieci team, non è che è senza. Beh, vabbè, ma non potevamo sapere. Ah, lui. Lui che è tornato lì, ok. È vero. Sì, sì. Ha avuto molto culo che non c'erano nessuno. Ho una card per te. Adesso. Grazie. Stanno aprendo... Beh, l'automira di solito non si sbaglia. C'è un'altra card tua qua dentro. Altri due card tue qua dentro. Eh, c'è uno da tempo. Non mi fa capire. Ma non è un milione. Non mi fa capire. E... È flash. È molto flash. Toccata. Vendi il traccio. Ma in verità vorrei dare due danni Ah, vabbè Avrei preferito i due danni Beh, sì Avrei preferito i due danni Ciao, Zack È vero Cioè, vorrei giocare non tossico contro onestamente Se non giochiamo non tossici, giochiamo molto bene Avresti una cura da dare a lui? Che ha zero cure proprio, poveretto Cioè, non si può curare la vita Sono un po' too much, eh, per la sua poca vita Beh, vabbè E io proprio zero cure di tutto, vorrei fare un fight Sì, qua è veramente pieno Eh, gli ho fatto 87 flash Craccato l'All Might Anche l'All Might Caricati Eh, quasi Craccato l'All Might e anche il Todoroki Che palle incredibile Quasi Craccato Eh, non ho cura Craccato l'All Might è distrutto One shot l'All Might Eh, non ho scudi Non ho distrutto Io non ho Anche a me Anche a me Non ho la vita di tutti A tutti No, ma vorrei lo scudo però Eh, sì, sì Tutto Tutto Ah, tutto, minchia Bello C'ho un team dietro e a cemento si è All Might One shot 1 Caccato l'All Might Sì, ma non... Ci sono altri tre team, tipo Non ho pure Sono morto Ho fatto l'All Might Però ho una Toga da me Io mi devo curare con gli scudini Non ho altro Qua ne hanno ucciso uno da me No, ma come m'ha visto? Eh, come m'ha visto Leimassist che gli mirena automatico Quando mi passa di fianco Eh, c'era un altro full team da me Altri due team, anzi Da me sono due team che fightano Vabbè, ma Beowulf c'ha il respawn Tanta roba Mi recupera, mi recupera Bravi Mamma mia Beowulf è bravo, eh Però È morto Sì Eh, beh, full team Bakugo, Todoroki e All Might Là, è da... Le Barbie Un a terra Eh, ma sono due team però Quindi attento Mmm Stai vicino a lui Stai vicino a lui Stai vicino a lui Eh, veramente che sfiga Beh, adesso che mi respawnate Potremmo andare ad aprire la cassa grande Così mi prendo un po' di loot Occhio Lui mi sta respawnando Credo, spero Perché non lo fa Oh Brody E ti hai Sempre il team più rotto Eh, tocca Bisogna fare punti Eh sì Eh sì Ieri ho usato full cemento Se con i random è stato molto difficile Quindi Che po' guarda che schifo Guarda che schifo Guarda che schifo Per fare punti bisogna andare su di loro Guarda che schifo Porco due Però tipo Cioè Ma erano due team comunque No, perché mi ha colpito lo stesso? Terribile Ma non ci credo C'era una troppola Sei morto? No Oddio Mi ha full Che palle Beh, sono morto anch'io Dio No, vabbè, vabbè La pool non l'ho ancora fatta, no Cioè è impossibile fermarsi due secondi per curarsi Perché sono No, vabbè Ma sta situazione Cioè Peccato Non so In sta partita eravamo messi male Peccato Per il tifo È vero Cioè in sta partita eravamo veramente in mezzo a tutti Eravamo messi molto male Lui è di nuovo respawn Però cioè Non ha il tempo di far niente Beh, a me può recuperare A te non so Ma spara figa che te lo scopi Che c'hai Bakugan Bravo Beh, beh, beh Cioè a me ha respawnato Ah, vuole prendere anche te prima? Non lo so Non ha molto senso Cioè a me potrebbe respawnare Io lo potrei aiutare in questo fight Tanto anche perché poi ci sono sicuro altre card Non ha senso non respawnarmi qua Cioè spero lo capisca No, niente Vuole prendere anche te Vuole prendere Eh, ho capito Però là tanto ci sono altre card È inutile prendere anche te prima Anche perché ora non si salva più Mi sa Vediamo Ma sì Vabbè c'ha il plus ultra, è vero? Sì Ma perché non gli sparano? Perché quando vado Ma figa Ma perché quando vado io Mi sparano in sette Bakugo Cinque elmite Tre Todoroki Cioè lo fa così No, ben veramente Ma vincia Boh, lui è passato di fianco A un olmite Un Todoroki Un Bakugo Nessuno gli ha sparato No way Vabbè, onestamente Gokuto Guarda che ci fa pure L'acqua Respawnano davanti a noi Crackato quello che ha respawnato È quasi one shot Il Midorià Era quasi one shot Tantissimo Tessuto al Dabi Maccato al Dabi Eh, vado qua davanti Era l'unico Eh, mi sa Era quello che ha respawnato Peccato Speriamo in qualche cura Non ho cura Neanch'io Sto facendo random Siamo Sì, con un random Bloccato Perché Ah, l'ho preso No, non ha un cazzo Non ha cure Zero Zero cure Perché Esotico Davonato un altro Ok Che là dentro No Distrutto il Bakugo Quasi one shot È andato in plus ultra Vabbè Eh, non posso fare niente Peccato cazzo Avevo preso altri down Avevo fatto un botto di danni Vabbè Secondo me non riusciamo a curare Sponarci Se lui copre lì E fighta sì Dovrebbe avere anche il plus ultra ancora Eh, però che cazzo facciamo Una volta arrestati Tue cure Io zero No, zero Eh No, sì No, zero Zero io Zero Però possiamo aiutare Craccato È l'ultimo L'ho distrutto L'ho distrutto No, pandits È one shot Ha pochissimo Ha pochissimo Ha pochissimo Gli ho fatto 150 flash Che peccato Peccato per quella granata Cavolo Vabbè Tanto alla fine vincere O fare il secondo posto Non cambia molto di più Che non si prende la kill 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 Peccato gli ho dato due hit Di Cioè due hit era flash Eh Eh Gli ho dato due hit Flash aveva 20 di vita Probabilmente Eh bastava avere uno scudino Bastava avere tipo Un mini scudino pure O il plus ultra Posso mettere l'account Quello di sto gioco Sulla play sulla switch No No Non ancora Vabbè 4000 danni 4k o Va bene Beh più 600 6k o Più 600 Va molto bene Va molto bene Fin che Si va sopra Allora Push Altri 3 ticket Eh niente Devo finire le settimanali Per poter fare la pull Devo fare Aiuto minaccia 15 civili Devo ancora farla Poi Porto una tecnica quirca Livello 9 Invia Mi piace Minchia Eh Cioè devo 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 Trajardare Devi Devo trajardare Eh si Mandiamo in piaccia Pandits Così Ma no Perché non mi ha contato Ok si me l'ha contata Mi mancano 4 stelline Mi mancano 4 Ti manca Eh non lo so Adesso vedo Comunque mi mancano 4 stelline Porta una tecnica quirca A livello 9 Ah in via 300 mi piace Sono 3 stelle facili E poi Quando muori Ti metti Di aspettare qualcuna Spam mi like Ah è vero E aiuto minaccia 15 civili In difficoltà Devo salvare 7 civili In questa partita Vabbè In questa Cioè Sì In questa Eh vabbè Eh vabbè Eh sì Cosa ne pensi di Davy Non Cioè È il personaggio Che più andrebbe potenziato Ma vai Rottissimo È il personaggio Che più andrebbe potenziato Ma vai È rotto Vabbè Io sto mettendo mi piace Mentre ci cerca il compagno random Ma sei serio Ovviamente Bacu DJ Iino Professionista 1 1,60 Lo accettiamo Ma sì 1,60 ci sta Beh non così tanto Però va bene dai Sì Glielo concedo 1,60 sopra la media Sì sì Va bene Va bene Cioè scusa Tu quanto lo hai? 2,70 Come te Eh sì Ma Attendi che gli altri membri Siano pronti Però siamo pronti E non va C'è tu che non sei pronto Ma davvero? Io sono pronto in verità Io vedo che non pronto Adesso? Sì però a me continua a dire Attendi che Ah ok ora va Forse perché stavo Trajardando per dare like Alla gente E mi si era buggato Può essere Molto probabile Ora però scusami Ma devo purtroppo andare a buttare Una cosa nella spazzatura Quindi mi assenterò per qualche secondo Ciao Buona spazzatura Grazie Al momento continuiamo con il random Che sta andando molto bene Abbiamo fatto tre vittori di fee Ah no non è vero Questo era un secondo posto Mannaggia Però abbiamo fatto due secondi No Due vittori e un secondo posto Comunque devo dare ragione a Panditz È molto bella la schermata di caricamento Che ho sbloccato Sai Panditz È molto bella Ciao eccomi tornato Ho sbloccato la schermata Quella L'altra di Mount Lady L'attacco della gigantessa È molto bella È molto bello lo stile con cui è disegnata Sì sì concordo Ho visto che c'è anche un altro Un altro Un altro stile Però ho visto che costa veramente tanto Molto molto bella Sì conferma Bella sitting Ora sto sbloccando il culo di Mount Lady Beh il culo di Mount Lady è la migliore Poi ho sbloccato All Might che dà il cappello Il cappello Ah Deku Ma e quindi tipo ora te quale schermata mette per il caricamento Tra tutte queste Ora io ho Deku che guarda All Might versione potenziata max Che dà il cappello Ma Ok E come l'hai scelta? Non l'ho scelta L'ho metto automaticamente A volte mi riesce anche quando tipo È presente la scena quella iconica dell'anime Dove c'è Deku che si mette a piangere in mezzo alla strada Con All Might versione magra Sì E c'è tipo il tramonto Lì messo dietro Come sfondo È presente Cioè sì io non guardo l'anime Però in questo caso non me l'abbiamo messo Non capisco il perché Va molto a casuale Ma va bene dai Ci sta eh No vabbè meglio così Almeno vedo più schermate di caricamento possibile Cioè io vorrei vedere solo quelle con Mount Lady però Ah eh sì Ci potrebbe stare Sarà veramente bella Perché a te piace Mount Lady Se non sbaglio Sì È il mio personaggio Preferito Ciao Abbiamo altrimenti Ah spiega Se vuoi che non si unifico Ah ok È tornato in gioco Beh Minchia Panditz Ho già il Quirk al livello 2 Cioè è tantissimo Porca vacca Io al 4 No come è possibile Ho trovato 3 cartine E ho potenziato tutte su R2 Minchia Eh sì Qua bisogna tryhardare con te Ma io devo tryhardare per salvare i civili Per favore non me li rubate C'è uno qui e anche due cose certe Va bene Li accetto Mi devo sapere se li accetti Li accetto Li accetto Aspetta che Allora sono una beta e un'alpha Immagino No C'è C'è lì vicino eh Per la verità Eh niente Ci ho provato Ciao ho l'abilità al 6 Io ce l'ho al 3 Molto male Ciao si vieni C'è un civile No è caduta sulla macchina No ma prendili pure i civili alla fine Cioè nel senso Ce ne sono tanti Tanto Attento che me li potrebbe rubare il Bakugo Grazie E sarebbe veramente brutto Cioè Bakugo Allora Sono a 3 civili salvati Voglio arrivare veramente a 7 7 in un game Secondo me è veramente dura come cosa Ma non è vero Sono già 3 Salvo tipo tutti quelli che vedo Eh ci sta Dopotutto sono un eroe Eh si E poi così farmo anche le cure di gruppo Che sono sempre utili Ciao si C'è una card No ma così me la ruba lui Ma Kotal Il civile come è fatto È un bambino È tipo il lama di Fortnite È molto difficile da trovare Ciao Bandit Sono 5 civili salvati Ciao tranquillo Mi sono nascosto Va bene Hai fatto una giusta cosa Ciao Mi manca solo un civile da salvare Ti porto le card Ciao Ho craccato l'Uraraka Ciao Bandit Io sto Devo salvare l'ultimo civile E arrivo Ok Cioè in caso portali tu da me Eh c'è uno scena Eh no sono morto però Eh allora arrivo Eh sì ti capisco Cioè Non li vedo più Ora si No ma hanno rotto il palazzo Su cui stavo salendo No che cosa Beh sì Beh era molto bello Noccata una Bravo Confermata anche Sono stato molto bravo Provo a fare una cura di gruppo Ok Per la vita Così salvo anche te Ok Mannaggia grazie Flavio per la sabba Premi nel link per entrare nel gruppo Telegram Però c'è anche l'altro là vicino È arrivato è arrivato Ed è un Bakugo Veramente tossico Sto andando No way Mi curo e arrivo Ma adesso sono fuori safe Adesso prendono un po' di cura Ci sta Beh il Bakugo è scappato Era one shot Peccato Cose che succedono Ma quindi secondo te Tipo avendo salvato un sacco di civili Ho fatto punti per le ranked Non lo so Puoi controllare appena torno in lobby E dopo vedremo Magari ho fatto tipo un sacco di punti Ma le ho finiti Le ho salvati Ne ho salvati 7 Ah perché posso arrivare 10 Eh ormai Eh ormai Con questo sono 8 Allora Non ci hai pensato No Spero di trovare un'altra 2 Eh sarebbe figo Ma il Bakugo fuori safe Secondo te ha diventato Bah Secondo me no Si è arrivato Perbacco se vola Mannaggia veramente Che palle Però ho Bakugo Veramente fastidioso Come personaggio Sto salvando Il mio nono civile Ah Plus ultra Era one shot di vita Da unato Da unato Vado L'ho proprio arato Con Todoroki L'hai tipo Obliterato Si si Mi manca solamente un civile Non lo so Ah un Uraraka Che è che mi ha colpito Ah è qua dietro Un Todoroki E' vicinissimo a te tipo Eh Non aveva tanta vita Ma l'ha noccato L'ha noccato Io mi sa che Devo rubo Grazie Gliel'hai rubato Si Cioè dopo tutto Quello che ha subito Tanti danni Sono stato io Beh Non penso che te lo meriti In base ai danni subiti Però Ma Sì Cioè lui ne ha già tantissimi Di K Io non sono riuscito A prendere solo uno Prima Io ne ho due Tu io sa Bakugo Cioè Io di K Ne ho soltanto due Anche io adesso Due Eh Allora faremo veramente pochi punti Mi sa Ma no Siamo ancora a quattro squadre Beh sì Non sono tante Sto a prendere l'accesso Super mega gigante Se vuoi Ma che poi siamo in quattro squadre Ma loro stanno già combattendo Ma vai tranquillo Una è da me In realtà E' un Uraraka Credo Sì Distrutta Ma proprio tanto eh Eh però per bacco Eh ma dove sarà andata Non lo so Penso sia salita No Era salita E' scesa Verso di me o verso di te Eh Sì Sì C'è Il teammate mi ha scritto in privato Per favore Mi puoi vendicare Che Panditz me l'ha rubata una Sì Diciamo che Però Vabbè Ma tu l'hai rubata il teammate Sei stato molto tossico Cioè Non Il nostro teammate Busta di E' morto Cavolo Ma l'ha sopra No l'ho fatto cadere Ah Perfetto Ma sono caduti anche gli enemies O solo lui Sì Non li vedo da qua eh Non ti posso aiutare E niente E' stato veramente terribile L'ho craccato eh L'ho distrutto Prendo solo due colpi Vabbè uno solo che se no rischio Grazie Eh Così mi è piaciuto Abbiamo fatto proprio un'ottima giocchetta di squadra Sì Previsto che ottima tattica Cosato L'ho fatto cadere dal palazzo Cioè dalla sua Ma è stata sì 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 Io andrei da qua fuori Che secondo me non sono dentro Anche io Però siamo stati stupidi Potevamo farlo risponare A sto punto Ah vabbè Beh Stupidi sono gli stupidi Non li vedo Secondo me sono sopra sopra Io sono sopra sopra E loro no invece Sì sono sopra sopra Avevi proprio ragione Eh cavolo l'ho detto Beh era molto probabile comunque Occhio stai cadendo Eh sì Eh Ah non ho capito niente Eh ma un solo Un solo Da un'ata Ci sta Ci sta ci sta Mi sa che DJ No No non so con quante kill L'abbia finito Verifichiamo Va bene aveva due dai Cioè Eh mica Voglio dire Sono tanti i due Sì ma poi è stato un buon teammate Comunque A parte quando è andato a terra Ha rischiato di trollarla Però vabbè Più che altro mi sa che non avevo Tanti danni Perché abbiamo fightato molto poco E ne avevo solo Un 2300 Che schifo Anche io 2300 Quanti precisi? 2392 No mi hai arato 2372 io Beh Cavolo No No Ho finito con nove civili Non ho fatto il decimo Me ne ero dimenticato Anche io Cazzo Cazzo Mi mancano 15 mi piace Posso fare una multi Beh la faccio Dammene già 10 ad esempio Allora sì Allora 10 a te Ok Poi ne diamo 10 a 7 Dai ero ma dai Cioè come descrizione Quindi gli metto il mi piace Perché non mi ha dato Settimanale Ok 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 Ultima Pescata multipla Di questo banner Perché non penso di riuscire A farne altre Sarebbe molto difficile Eh perché Manca tipo un giorno Manca Certo potrei sempre Tirare fuori il portafogli Eh domani o dopo domani Potrei sempre Tirare fuori il portafogli Eh No Solo un avambraggio dorato Niente Buon Marco Baleno Niente Ok Ok È finita Pandezza Non c'è niente No non è vero Godo Uno Uno solo Uno solo Una piccola speranza Comunque Sono arrivato Sono arrivato Alla conclusione Che avambracci dorati Buon Marco Baleno Non vogliono dire niente Perché davvero Adesso non c'era nulla E è uscito Il plus ultra lo stesso Ah intanto spero In qualche doppione Eh vorrei qualche doppione Di due stelle Così mi farmo Un po' di spiriti eroici Che ne ho Tipo Eh non sono ancora Arrivato a 100 Dai Costumi Costume impavido Per Bakugo Che palle Sono sempre No non ce l'avevo Ma sono sempre I costumi Non da banner Anzi Avrei preferito Avercelo di già Così mi avrebbe dato Gli spiriti eroici Sempre Sempre Roba Non da banner Sempre È il mio Quarto o quinto Costume impavido Che trovo Vabbè Almeno ti puoi minare Tipo tutti i personaggi Perché hai già le skin Cioè Ci sta C'è cazzo È il mio quarto o quinto Costume impavido Che palle Io sono salito Un sacco di top Ora sono 472 No io sono Veramente arrabbiato Cavolo Sì Potevo trovare Un doppione Almeno Vabbè dai Per favore Non piangere Non ci rimanere Maale Sono andato Nel negozio sbagliato Devo andare Sul negozio normale Ma guardano tutti lì I punti Cioè io faccio Vabbè Posso prendere Un biglietto Ho un biglietto Personaggio Così posso prendere Kirishima Quando andrà via Dal banner Tra uno o due giorni Ah Sì In teoria Quanto manca Un giorno E io ne ho uno solo Quindi Io spero però Che rimangano Almeno i punti Onestamente Ma se faccio Un'estrazione singola E trovo Kirishima Mi Doni 5 euro Paypal No Tu mi devi già dare 5 euro Mi risca Vabbè ho capito Ma quanto è probabile Che trovi Kirishima In un'estrazione singola Dai Ok ma se non lo trovi Mi mandi adesso I miei Ma perché Ma non sono tuoi Fino a che non li trovi Cioè fino a che non li ottieni Ho trovato un costume Una stella per Shigaraki Vabbè C'eri vicino Sì Molto Però ho fatto il badge Quello Tieni 50 costumi Domani debaffano Bakugo Perché Chi l'ha detto Quando Ma non è vero Manco da che gli credi Beh Davvero Io Voglio vedere a quanti punti sono ora Non tanti Sono a 97.000 quasi E devo arrivare a Minchia Devo arrivare a 110.000 Mi mancano 13.000 punti Se guardi il 472 Sono io Sì era in partita prima Era contro di noi E l'abbiamo arato Beh 2,25 di KD Discreto Guarda non ottimo Ma discreto Io spero che i punti Quelli lì Me li lasciano Non posso prendermi Tipo il prossimo Eh anch'io Spero sia Ok Ma perché quanti punti hai 100 Eh anch'io spero Ma io spero che quelli restino Penso di sì però Allora Solitamente nei giochi simili Quelle robe restano Poi non so Ma anche perché Non avrebbe senso Toglierli Non Cioè Dipende Almeno che ti diano qualcosa Altro Cioè proprio toglierli Senza darti niente Non ha senso Eh solitamente restano Poi È da vedere In questo gioco Perché tipo Poi almeno mi mancano Tipo solo 7 pull Da 10 E mi prendo Ox Ox Ho un personaggio figo Non lo so adesso So chi metteranno Dove Hai vinto 83 volte Ciao Che schifo Che sega 5 tipo Negli ultimi 30 minuti Però sì Ci sta Dobbiamo farmare vittoria Beh oggi Sta andando particolarmente bene Sì ne stiamo vincendo parecchie Ma Allora Ma se a volte Tipo quando Siamo in tre va male E adesso che siamo in due Va bene Chi è il problema Cioè non riesco a capire Cioè non riesco a capire Quando giochiamo Io te e i davidotti Va male Adesso che siamo solo io e te Va bene Non Eh non lo so Poi lui usa anche Baku Minchia Che schifo Comunque non riesco mai Usare la passiva Quella di prendere in squadra È perché non andiamo mai a terra Ma oggi mi sa che veramente Non siamo mai andati a terra A parte la partita dove siamo Arrivati i secondi Eh sì Cioè Io non mi ricordo di averti mai Rianimato e tu non hai mai Rianimato me Quindi Beh vabbè era molto bella in verità Cioè Eh ma io avevo Comunque avevo 4000 danni Avevo fatto più 900 In quella partita E peccato Poi siamo arrivati i secondi Di molto poco Cioè aveva Tipo 20 di vita L'ultimo Bakugo Aveva tirato quella granata Molto bene Dietro al mio muro Eh ma con Bakugo Stronzo perché può usare La passiva per la di volare in aria Con certi granata Non puoi più far niente Eh sì Perché la granata Prende pure La zona ampia E quindi niente Ti non dà tre forze Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette Più otto il nostro Ok Ogni team a Bakugo Beh sì ci sarebbe Mi fullo E tu hai preso la mia forza O no Ah ho preso tutto io Minchia Che veloce che sono stato Con l'hotspot Beh ma sono stato straveloce Ci ho preso tutto io Il nostro Bakugo Secondo me non è male Ho dissuto il Bakugo Ok Che brutto però Che anche quando sono Todoroki Gli altri Todoroki Mi asfaltano Hai una card qua eh E da me è l'ultimo Sui Grazie Cracca Noccata Eh Grazie Grazie Io ne ho già due Crazy Crazy Beh sì No Crazy Scemo Davanti a me Congelato Vai vai L'asfalti Per caso Dov'è finito? Tutto il muro No cazzo Mai gli altri lì? No Era da solo E niente Ho un'abilità al 5 E' azzurra però Però potremmo prendere La cassa qua A questo punto Forse lui arrivava Perché? Sì ma c'è la cassa è già scesa Io non la lascio Chiede se siamo francesi No Abbiamo il video Oh 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 Però Però anche prendere questa cassa Era molto bello Bidet Ci sta Arrivo da voi Sì Stanno rispondendo qui Stanno rispondendo qui Bisogna essere fermato a scrivere Mi insulta la madre Sì Farebbe molto bene Porco due Ho tipo 180 da qua Minchè io sono messo da dio C'ho un'abilità al 9 160 Penso ti abbia insultato Non lo so Ah Giù tu Mi ho appresso Il tuo Credo tipo Se vuoi ti apro Se vuoi Ah A presto Ragazzi qualche francese Ah ma ce n'era uno qua Ecco chi mi sparava Ti ha congelato Ti ha congelato Che palle Distrutto Staccato No Mi chiacchia mente Se non lo vediamo Sada un po' Staccato Ma Ora mi puoi prendere Ah ma è un altro full team Ush Ti prego No Dai era impossibile Hanno un altro team No 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 Ciao morta L'hai fatto la roba Sostare il prima di dimenticarti Minchè quando chiudo Ogni server Ma comunque sì Devo solamente in verità Sì sì ho fatto Yes Le giornaliere L'ho fatte stamattina Non ho speso Tutto la resi Ma non t'ha visto Cosa Cosa Mi ha già risponato Allora è fortissimo È stato molto bravo Cavolo io in sta partita C'ho un KO E pochissimi danni Mi sa che Al momento sono in negativo Tipo Minchia Sì Dai non male Non riesco a prendere Quel lutto No Bakugo crackato Distrutto Devastato Bakugo Distrutto Proprio L'ho visto L'ho visto Una toga È l'altro team Da un altro Il Bakugo Mio No Sono morto C'è un Todoroki Ma chi è Ma chi è No Perché 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 Faccio quella di gruppo Sì Resisto Lui se ne fa Tra quanto Ok Crackato il Todoroki Tantissimo No cato un Todoroki Io No cato un altro Todoroki Niente Mi hanno noccato Hanno arrestato il mio Mi sa Forse mi riesce a grabbare Che palle No vai dietro Non ho cure però Zero cure io Ho cato uno Eh io non mi posso curare No no È impossibile È impossibile Io non mi posso curare Non ho cure Zero Ho capito Ho capito Eh Ecco due Io non ho cato uno Però lui dove è andato Mi fanno il kill Eh lo so Stavo finendo lo scudo Che Ho visto E forse sopravvivo No Gementos mi fanno il kill Mi fanno l'esecution Nico guardalo Noo Eh sono morto anch'io Eh lo so Ho visto 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 Non avessi avuto Il ghiaccio lì E lì Sare sopravvivo Eh ho capito Ma non avevo Non avevo colpi Non avevo colpi Non avevo colpi Non è impossibile Proprio Ma poi ero in cooldown Però muori Sì sì Comunque ero in cooldown Non avevo colpi dell'R2 Se no l'avrei fatto Cavolo non riesco di veramente poco A entrare No no di pochissimo Eh non ci riesco di un cavolo Minchia peccato Però lui ci può responare Ha le carde E noi siamo qua eh Eh Sì ma siamo Sì Ma dice è morto Peccato cavolo Perché me Non ti ha preso Non mi ha Dai Ma perché Hai fatto il tifo No mortal L'ho fatto L'ho fatto Non ti dà la kill Neanche in quel caso Se uno muore di safe Tu l'hai knockato E muori di safe Non dà la kill a nessuno Che Stronzetto Cioè mi avrebbe potuto Responare nel chill Sì no ma Ha preso tutto Tranne te Ma per sbaglio Cioè il gioco Che ho fatto male Infatti sono andato full così Perché pensavo di averti preso Eh sì ma cavolo Cioè Mannaggia È veramente peccato Vabbè Forza Bakugo Che sfiga Vabbè Per fortuna Mi sono preso Un paio di K.O. Prima di morire Almeno Minchia che granata Oh Hai visto Madonna Bellissima Ah c'è un altro Cementos Ah ma non ci aveva Non ci aveva Insultato In che aveva scritto Aggiungimi Più tardi se vuoi Ah A press Vuol dire Dopo tipo Ma io pensavo tipo A press Ti apro A press A press vuol dire Dopo no Eh non lo so Credo Non lo so Apre Sì da aggiungiamolo Lo invitiamo con lui Dici Lo invitiamo come terzo fisso Forte Forte Beh e Come faccio Lo devo andare E da dove lo aggiungo Facciamo così Nuovo terzo Il nuovo Davidotti Che poi comunque Quando ho fatto Il robo di ghiaccio Se avessi avuto L'abilità un pelo Più livellata Sarai arrivato Anche fino a te Secondo E che ce l'avevo A livello 1 Vabbè Ah mi manca poco Al professionista 5 Missioni Vabbè tanto ormai Non ho più missioni Da completare Perché Ah ma minchia Io mi ero dimenticato Di prendere Il bonus login premium Di oggi E di ieri Ma perché il bonus Login premium Non te lo dai in automatico Minchia Lo devi andare a riscattare Che fastidio E appunto Però adesso hanno iniziato Che te lo mandano Nella posta Sì ma a me Dispace per questo ragazzo Che tipo Ci ha detto Se volete Lo può giungere Cioè E io gli ho scritto Chill E l'ho invitato Ah ce l'hai fatto Eh sì sì Basta andare su Giocatori recenti Però ci ho messo Un bel po' di tempo Non so se ci sarà ancora Penso di Sispiri Il nuovo banner Esce domani No un giorno E 12 ore Dopo domani Magari se metti pronto Ci capita come random Com'è che si chiamava Ah dai Saiyan Tipo Eh sì Ex Saiyan Vabbè Non è che fosse così forte Che non ne possiamo fare a meno Cioè Nel senso Vabbè Eh sì però Mi sento leggermente in colpa Cioè Neanche perché non è che ho detto Niente di male Però Avevo capito tutt'altro E invece era gentile Un bakugo non tossico Pazzesco Stagionali Gioca 300 Minchia 44 giorni ancora di stagione Porca c'ha la macchina Cioè Pensa che devi farti 44 giorni Per mantenere la top 1000 Vabbè ma Sì Eh Kai Kai Non ti vogliamo Vabbè Kai Gunners Com'è Non male Puzza un po' Però vabbè Vabbè Bacugo Ci credo che puzza Eh Suda Poverino Mettiamogli mi piace Ok Ciao Arrivo Ciao 131 partite 21 vittorie 21 21 17 K O Infitti Va bene Grazie Dade per l'are sub Non male Kai Gunners Kai 9 Gunners Io dovevo fare 17 Mila punti Porco Cazzo Sono tipo 30 partite Contando che poi Nel mentre Sale pure Mannaggia I bei tempi In cui ero a tipo 2000 Dalla top 1000 Poi niente E' successo Quello che è successo Ok Let's go Ah ma tipo Adesso mi mette La top 1000 E ti da il badge E' tipo Il predator di Apex C'è C'è il badge Della top 1000 Solo che Boh La gente Nerda Come non so cosa Tra oggi e ieri Salita di 10.000 Alla top 1000 Ciao Pandits C'è tra oggi e ieri 10.000 punti Cristo 10.000 punti Sono parecchie Perché già Con partite molto buone Da 1000 punti Sono 10 partite Al giorno Se nelle altre Non mai negativo Ciao No Comunque Todoroki Ha decisamente Troppi colpi Sempre a lamentarti Sì Ma come non va bene Dico non va bene Non va bene Ma mi troppo Non mi toserò Eh sì È vero Cioè C'hai creato un gioco E gestisci Telo Eh Va bene Ci giocherai Sì Arriverò Top 10 Ok Come lo chiamerò Non lo so Ma tu Sei tu il creatore Cos'è tu Ma tu lo stavi dicendo Non dico a tante cose Here 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 Good You Chiusi Beh Todoroki Mi dispiace Ma ti stiamo Per pushare Aggressivamente Ciao Todoroki Ma è quel Kirishima Piazza Centrale I'll beat you Midoriya Cioè in verità Io mi apro questa Ma danno i ticket Anche Mortal Sai che alla fine Della stagione Ranked Danno i ticket Pandits Alla fine Della stagione Di ranked Danno i ticket Come premium Danno dei ticket Per i pull Come premium Sì ho visto Però pochissimi Minchia Ho visto C'è una porcheria Ne danno tipo 50 Per una stagione Di 90 giorni Nel senso Mi sembrano un po' pochi C'è mezzo pull Mezza multipla 5 singole Tra yardate Cioè si usano Personali Rotti di curo Però Ho capito Però Cioè 5 pull singoli Per il rank massimo Ogni 90 giorni Mi sembra molto poco Magari ti da Telle top In realtà No no Non lo so Su Apex Fai il diamante Non ti da solo Le riconferenze Del diamante Ma ti da anche No ma ti da solo Quelle di quelle Che hai fatto Dai Sicuro Chi lo sa Io Ma non l'hai creato Tu Vabbèo Vabbèo ci sarai tu Cacciano Ah no Non sei tu Cacciano Cosa stai facendo Ci hai provato No Avevo lo zaino pieno Volevo prendere la card Per la rianimazione In verità Ma io no Avevo già due Ma così saremmo stati Due a testa Devo trovare uno zaino Grazie Godo L'ho presa io C'ha provato Ma non credo Ci saranno Ah sì Non è proprio Che brucia Ah sono proprio qui davanti C'è un Uibara Di Bara è uno Noccato Eh anche il Bakugo Mi sa Anche il Bakugo Lo è Crackato il Bakugo Ma no È un altro Bakugo Non è lui Eh ma io no Noccati due qui Crackato il Todoroki Ma mi sa che sono due team Perché c'è anche una Momo Qua non c'ha Il Todoroki Noccato il Todoroki Eh ma mi sa che sono due team Perché c'è anche una Momo Ma è restato il Pandits Ha restato Ha restato il Todoroki I will beat you Ma Ne sento uno Ma non capisco dove Beh qua dietro è pieno Cioè c'è la Momo Qua dietro Qua da me c'è un Bakugo E una Momo Qua Pusciamo loro Lui sta già pushando Che è salito È sceso Sta risalendo Non so cosa faccio 107 flash Noccato È risalito L'ho noccato L'ho noccato È risceso O è risalito Boh Ne sento altri La Momo Scaccata Che palla è andata in plus ultra Troppo più ora Occhio che è in plus ultra Con gli scudi Rompi i coglioni Oh oh Il Bakugo Straccata Straccata Dammi il kill No Pandits Mi hanno rubato la conferma Eppure ucciso Veramente terribile Non poteva andare peggio Non poteva andare peggio Conferma rubata Eppure ucciso Terribile Cioè molto brutto Forse lui mi recupera Ti prego Kai Fallo Kai Dai Ma prendimi il Ma Pandits Era là di fianco L'ha ignorato C'era di fianco L'ha ignorato Godo che ci sia morto Perché era veramente A un passo dal mio banner Cioè c'era sopra E non ha raccolto niente Ma che sta facendo quello Scusa Lui si è restata solo Lo spero Minchia quanto lutta Madonna C'hai sette di vita Però molto tossico Kai Devo dire Stava proprio sopra il banner Non ci ha neanche provato Però ora Forse per scusarsi Ci sta tornando Non lo so Sì Sì Va bene Parzialmente perdonato Solo parzialmente però Però cavolo Adesso ho l'abilità All'1 Mannaggia Va bene che le mie abilità All'1 Fanno più Di abilità All'9 Di altri personaggi Distrutto il Bakugo Distrutto lo Shigaraki Davonato lo Shiga E allora io mi confermo Lo Shigaraki Ha restato uno Ne ha restato uno Pandit Ah ma sono morto Da chi sei morto Sono fuori safe E mi puoi restare Non c'è nessuno Arrivò il web Sei gentile Dai mi sei simpatico No Siamo morti Perché? Eh ci ha pushato Ah ma cazzo Ah beh due e due Eh due e due Così per sfumare Eh io sono morto Che fastidio suio Che fastidio suio No sì Che fastidio Più che altro Sai cosa è veramente fastidioso Che io sono stato per due A cercare di capire Quale fosse la tua E quale fosse il mio teammate Perché era di fianco a me Eh ma che non ha Ma che cazzo sta facendo Lui scusa Ma lui non ha Non ha mai combattuto In tutto il fight No ha preso me Cioè mi avesse aiutato A sparare Tipo la tua gara One shot prima Ma no Lui deve stare accucciato Zero kill con Bakugo In top 2 Cristo Kai Gunners Zero kill con Bakugo In top 2 Deve stare accucciato Vabbè Grande gli hai fatto 6 Vai Dai No Dea Bakugo potrebbe essere Cioè gli manca veramente poco Gli ha lasciati One shot entrambi Eh però tanto Struvi uno Eh sì però Io avrei continuato A insistere adesso Sinceramente Anche perché se non Cioè Cioè Urera ha messo veramente bene Ma quanto cazzo sta durando Quella toga Scusa Eh ma tanto la resto Oddio Bravo Ottimo La Tsuyu l'aveva distrutta Oddio 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 La gara così E la porta a casa Io perdono Io no Perché è stato molto tossico A non aiutare me prima Però vabbè Se poi la vince Va bene Questi due devono cambiare gioco Sì abbastanza Perdere in 2v1 sì Devono parecchio cambiare gioco Però poi in verità Non ci importa Perché se noi vinciamo Che siamo morti Non ci dà i punti Credo Cioè non Non lo so Beh sì Se no non ci farebbe aspettare Credo Vediamo Ma quali sarebbero i punti Per la vittoria Ordine punti Quelli sì Io ho fatto 900 punti Quindi immagino Eh io 600 Ordine punti Boh io non riesco a capire Tipo ordine punti Migliore della fase Che cazzo vogliono dire Quelle robe Eh io che ne faccio Mi scusi Eh non lo so L'hai creato tu questo gioco No Beh Eh 2v1 contro Bakugo Sì vabbè Cioè in verità Anche loro avevano Bakugo Perché c'era la Toga Trasformata in Bakugo Oh posso fare una pull da 10 E la tarsa tipo in due giorni Minchia Guardiamo un po' Non ho trovato niente L'ultimo pull da Spero che non trovi niente Neanche ora Toga Eh mi esce la skin di Toga Plus ultra Eh no Secondo me no Beh se resti felice Più o meno Se doppio pugno dorato Allora io faccio due singole Perché mi hai fatto venire voglia Vediamo se io nelle singole Trovo meglio di te No Non ho trovato un cazzo Vediamo se io nelle due pull singole Trovo meglio di te Nelle multi Non ho trovato un cazzo Cazzo Boom arcobaleno In una singola Pandits Oh zitto zitto No Cazza dorata Personaggio Ibarra Ma sei serio? Godo tantissimo Nella pull singola Nella cazza dorata Ho trovato il fake Ti ha fatto trovare tutti Ti ha fatto trovare Oh si Vieni qua Ibarra Ora la posso veinare E la volevo tanto Vabbè ma fa schifo Edo cambia gioco Per favore C'abbè manco ci gioca in realtà Però cambia gioco Mamma mia Beh 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 Sai come si dice Non c'è due senza tre O Momo O Ibarra Troviamo anche Kirishima Comunque ho capito una cosa sui pull Cioè quando Eh se ti esce la voiceline Tipo adesso non mi è uscita Quindi non c'è nulla Se ti esce la voiceline La voiceline prima No 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 La voiceline prima Ti esce di un oggetto Due stello superiore Del personaggio di cui hai trovato la voiceline Capito? Ma se io ho appena trovato Toga Non mi è uscita una cosa Questa di Toga Non ti è uscita una skin di Toga? No Adesso faccio anche una skin Ma vaffanculo A me è uscita Eh allora si vedi Se ti esce la voiceline Di un personaggio Prima della pull Vuol dire che Quella pull Contiene Un oggetto Due stelle o superiore Di quel personaggio In teoria Da quello che ho capito Di un tv marco baleno Peronico Cassa normale Che schifo Mamma mia Sono triste Sì? Dimmi Oh Che palle ancora Ma che bici Dillo alla mamma poi Dillo alla mamma Dillo alla voca È perché mi ha scorcato 20 euro Ah cioè Lui i soldi Dillo a me no Sì Ma sono Ma non lo so Mi sembra molto Cioè Che tossico Ma si vede Tipo una zinna Beh io direi Sì Vara c'ha tipo Una zinna Che esce Molto bella Il fatto di Vara È che Boh non mi ispirava Troppo da giocare qua Perché nel manga È abbastanza anonima Però Support healer È fortissima È un support Rianima i compagni Ha un casino di vita È uno dei personaggi Del gioco con più vita Perché ha 400 punti vita E sono tipo in due Ad avere 400 punti vita E sì Lei praticamente Eh allora Erano lei E Fammelo trovare Erano in due E Kirishima Ah vabbè Sì 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 Ibara 400 punti vita Beh sì Perché è un support Sì ma Ti vuol che Diciamo ha senso Cioè il support Che si indurisce Diventa più forte Più resistente Molto bella Lei no Ibara 400 punti vita Ha l'azione speciale Che rianima il compagno E poi Le abilità fanno Un casino di danni E vanno lontanissime Hanno un'area D'azione assurda È veramente forte Hanno poche cariche Però Fa anche tanti danni Quindi proviamola Lei non è Emily Più o meno Cioè L'R2 Va molto lontano Ciao Ciao Sono R2 Ma che lontanissime Grande Edo cambia gioco Cioè Se le abilità di Bara non vanno Lontanissime Penso vadano più Lontane Dei colpi Di Todoroki L'unica volta Che ho giocato Edo a Moore Nel senso Con lui e Ricky E è stato tipo Tutto il tempo a terra A guardarsi Tiktok Edo Deve essere zitto Mettimi mi piace Mi raccomando Ma perché Hai scelto Su teammate Ma perché Non è normale Fai sentire Chi domina il mondo Fai sentire Chi domina Ivrea Vai Pinky Eh sì È vero Pinky dovresti abbagliare Però Cioè è già smesso Pinky Scusa Panditz Se non gioco 5 ore al giorno AMHUR PS fatti una vita Ma In che senso Che cattivo però Che cazzo Ma Che cazzo Significa più che altro Che non giochi 5 ore al giorno Cioè Appunto perché Non ci giochi Aspetta Panditz Guardami un attimo Guardami 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 Secondo te Quest'abilità È tipo Due centimetri Cioè Nel senso Due centimetri Edo 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 Due centimetri Che da qua Alla lo colpisco Due centimetri Due centimetri Dai Due centimetri Due centimetri Due centimetri Ma no Ma no Va ancora che gli rispondi Cioè Già che ha argomentato La cosa di Se non gioco 5 ore al giorno PS fatti una vita Cioè 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 Veramente Non ha neanche senso Rispondervi Veramente un comportamento Immaturo Sì Panditz però Cerchiamo di giocare Molto vicini Va bene Così io te li intrappolo E tu li distruggi No ma che è molto vicino Io vado Attaccati No Contro tutti E tu mi resti Ah ok Anche sì 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 Ci sta Anche se sono Degli idea che Cementos è superiore Non lo so se Cementos è superiore Ibarra Secondo me Sì Secondo me Cementos è superiore Ibarra Però Ibarra è molto forte Comunque Diciamo che hanno Ruoli diversi Beh Ibarra Le zinnone Ma comunque Ibarra Se riesce a grabbare I nemici E i tuoi due compagni Sparano insieme a te Tipo K ho garantito Sì sono Perché non ho di fuori La gioca Sì Beh quello è un elemento Diciamo molto importante Nella mia scelta Di giocarla Cioè diciamo che in verità Principalmente la gioco Perché l'ho trovata Sì no ci sta Beh certo È bello variare Comunque Nico Se vuoi dopo Andiamo in Pups A farti fare i 10k Con Ibarra? Con 6k danni Non lo so Ah con Cementos o con Ibarra? Non lo so con chi vuoi Ma Cioè Ibarra è il mio nuovo main Quindi in caso con lei Non con Cementos Distrutti? Cioè distrutti Ho fatto 53 a 1 E 100 all'altro Però Oggettivamente distrutti Minchia Guarda quanti danni fa Ma fa tantissimi danni pure No Perché non è arrivata fino a là? No di quanto? Te lo voglio grabbare Voglio grabbare il Dabi Solo che è molto difficile Grabbarli Cavolo 1 contro il Bakugor Ho vinto io Ora vinto Ci scommetto le palle No Ok goal Ma c'è tutta la scommettura Stupido Avete vinto il fight? Sì 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 È morto è morto è morto Hai cura e scudo per caso? Davanti a me Davanti a me Fear my vines Hai fullato Ma no Non volevo Cioè sì in verità volevo Però non volevo Cioè sì Ho rubato una kill Al nemico Cioè al compagno Te la vado a grabbare Pandits Trust me No 1 Presa E c'è restato a lui Eeeh Cioè sto facendo la finisher Mi sa di no Peccato Che mini barra scadente Che non riesce neanche a restare i teammate Però eh Hai caccato il Bakugor Caccato Noccato Noccato? Però a volte non colpisco Non capisco Lo vado a prendere Lo vado a prendere Lo vado a prendere Vaffanculo Sì ma era tipo un argento questo Ah eh sì lo so No no Stasera faccio un po' di Apex Pazzesco Finalmente Portate questo gioco scadente Davanti a me Due centimetri Due centimetri Sì sì Però cavolo Pandits L'unica cosa di barra è che è veramente difficile grabbare Cioè devi essere attaccato Quello sì Per grabbare Devi essere attaccato È due centimetri È due centimetri Provo ad avvicinarmi Però cavolo siamo in due di tre Oh oh Da dietro Caccato il Bakugor Sono in due Sono in due Domenico E Provo ad arrivare da te allora Eh no c'è anche il Todoro Colpito il Todoro Scappa 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 Ha sbagliato direzione lui In che senso ha sbagliato direzione Sta scappando penso Sì ma perché sta scappando Pandits Ah Vabbè in due direzione Todoroki da me Eh c'è un altro però Arrivo Non ci provo Non è possibile Ok Crackato il Todoroki Cioè io non devo morire perché io ti devo rianimare Quindi non devo morire No di quanto Io sono un picio Che palle però Bakugor Todoroki come avversari Posso dirlo Eh io sono morto Crackato Pandits sei troppo lontano Snaccato Buono? Sì No 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 Non ancora Preso 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 No l'ha restato cementos Dobbiamo scappare Certo Cavolo Scappa 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 Cioè continua a coprirmi un po' Ma scappa Eh ma niente Pandits È Brutta eh No lo so lo so Faccio io la cura di gruppo Di vita Eh scappa scappa Non sei riuscito a confermarlo No c'è la cementos Che ha Menti sto tipo Sai una cosa che non mi piace molto Dei personaggi che rianimano È che devi essere per terra Cioè nel senso Non per terra Nel senso da un ato Nel senso che non posso farti L'abilità di rianimazione Mentre sono tipo in salto Capito? Cioè devo essere fermo Con i piedi per terra Eh beh Eh sì Comunque secondo me Si farmano un casino Di danni con Ibarra Perché è facilissimo colpire Poi comunque Si carica anche Abbastanza velocemente L'abilità tipo Da qua alla lo colpisco Vedi assurdo È tipo impossibile Da schivare Peccato Sì 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 Peccato Si stanno Facendo un botto di danni Davanti a me Al centro A piazza Sotto cemento Sotto cemento Ah perché gli ho fatto Un casino anch'io Ma secondo te Se livello l'abilità Che grabba Li grabo per più tempo Non lo so Magari gli doi più danni Sì sì Più danni sicuro Da me fight a un casino Crackato il Todoroki Mi sembra Però non ho più cure Eh ma è impossibile Ma giochiamo vicini infatti Vieni da me Vieni da me Cioè in caso Non posso Ho una momo che mi insegue E provo ad arrivare io da te Cioè vieni verso di me Io vengo verso di te Cerchiamo di giocare vicini Tanto non dobbiamo ingaggiare Fight pesante No vabbè mi hanno inseguito Grazie Eh però son morto Cioè Faccio pure la scudo Se resisti Schiva 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 Colpiti entrambi Stanno scappando Sì No Sì colpito Vieni dentro Vieni dentro Vieni dentro Vieni qua Che palle No Tra quanto hai plus ultra pandits Io ce l'ho Io l'ho già usato Ah minchia Eh niente Mi han seguito No vabbè Eh no ovviamente no Però ti copro Eh no 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 C'è un deco qui d'occhio Oddio Si baralotta Eh sì Più che altro Col plus ultra Mi carica anche questo Non pensavo Cioè ti carica tutte le abilità Quindi ci sta No Basta Basta pacco Di merda No Io non voglio fare il tossico Ma è la quarta volta Che mi insegue Sono incoglionito Con Bakugou No Che palle Micchia Non vedo l'ora Che lo depotenziano Eh Ma dai Vaffanculo Che giro faccio Bakugou cacca Eh ma è andato via Tanto il Bakugou Anche prendo il E la coltivo Sola segnale C'è il teammate Perché non l'ho colpito Vabbè Mi hai fatto Ma perché Ma Ma non lo so Ma mi sono entrati In ritardo i colpi Dai Panditz era la prima partita Non fare il tossico Comunque mi è piaciuta molto Sì Ma era dritto a te Ma Forse c'era Elite box Della macchina Tipo Ma va Non c'era la macchina Quando l'ho colpito Vediamo Quanti danni hai fatto tu Panditz Eh Non lo so Eh 3000 3700 Sei fortissimo Ibara vince sempre Io non ho potuto giocare Io non ho potuto giocare Però sono stato bravo Ti ho ressato Sì ma infatti Hai fatto delle bellissime giocate Io sono dovuto scappare Dalla Momo Dal Bakugou Dal Deku Mi hanno ricominciato a inseguire Mi hai ressato Mi hanno inseguito di nuovo Mi hai rilessato Mi hanno inseguito di nuovo No impossibile Voglio fare Un sacco di kill con lei Però secondo me Cioè io vorrei comunque Far classificate Non le voglio fare in pubblica Tanto Vabbè magari ce la fai Sì Ma perché secondo te In pubblica si fanno più kill Tu da quant'è che non giochi le pub Scusa Cioè non so eh Io Le ho fatte tipo L'altro giorno Ho fatto 10k Conto le rochi E basta In quante partite? Uno Ah Sì ma Perché pushi Rubi le kill Tanto non te ne frega un cab Di rubare Beh quello sì E Vint Odio Bakugor Ma l'odio con tutto il cuore Eccolo Ma questo qui è quello che appena quittato Mi sa sai Era lui Ma sto qui è una busta di piscio a principiant E no E che no basta io No 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 Pandit sa che fanno i tossici Loro sono principianti e quittano Quindi devo fare il tossico anch'io Sì ma va oltretutto Poi usano Bakugor Ma minchia Ho usato un altro pg Madonna Cioè tutti i Bakugor Ogni random Guarda adesso di nuovo Bakugor Ogni cazzo di random che abbiamo trovato oggi Sia un Bakugor Non c'è stato altro personaggio Sì E fanno tutti schifo E quittano tutti Sì sì E quittano E quittano pure Poi te li trovi contro Madonna sono fortissimi Ti inseguono per tutta la mazza Guarda Di nuovo Minchia Cambia gioco Cambia gioco Aspetta Aspetta Non li sopporto Aspetta No no io Io non li sopporto Te lo giuro Che schifo Bakugor Gli ho scritto no Bakugor Adesso tutti i Bakugor Che troviamo Gli scrivo no Bakugor E quitto E mica almeno questo è forte No No Madonna Ma è facile Gli si scrive no Bakugor E lo si chicca Ah La squadra anti Bakugor In che me sto divertendo Un botto con Basta Non ne trovi uno senza Oggi zero random Cioè Oh 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 Primo random Dopo tre ore Senza Bakugor Pazzesco Eh principiante qua Ce lo teniamo Perché non ne troveremo altri Ma sei serio Vabbè 1,35 di K Ha quittato Guarda che sto guardando la live Ah Ma tu ti sei lamentato Eh Tu hai detto Lo teniamo Sei tu il leader Mica io Eh ma tu hai detto di no Cioè Io voglio ascoltare i miei teammates Oh Questo è un giga Bravo Con lui giochiamo Mi frega un cazzo Professionista 4 con Kirishima Bravo Allora gli scriviamo Aspetta che mi cambio Gli scriviamo No No volevo mettere Solo presenti parole Non consentite Pandit Gli avevo scritto Bakugoshit Parole non consentite Niente Io lo userei All Might Vabbè dai ci sta L'unica volta che l'ho usato È quando ho usato Toga e ho Il sangue di All Might No Ricky Io non posso giocare Con una persona Che manco sa il mio nome Ma ti svegli Cioè Pandit Zeriki Di colo Vabbè dai No way No way Here Here Ma è buon Un tuo sub Ma ti rendi conto Mamma mia Grave All Might Abbastanza forte Ragazzi Contiamo i Bakugo Io ne Sono sicuro Ce ne siano almeno 6 Beh Facciamo un gioco Contiamo i Bakugo Presenti in lobby Io dico 7 Tutti tranne noi Perché noi non ce l'abbiamo Io sai Tu dici 6 Sì Credo nella bontà delle persone Eh Sono tutti sovrapposti Non si vedono Però Secondo me sono 7 Cioè No 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 Secondo me Sono pochissimi O 2 o 3 Ma che cazzo dici Ce ne erano nemmeno 5 Che si vedevano Nel senso Che cazzo dici Ma ti sveglio No Mi fanno incazzare Che divento una hiena Cioè Mi farà arrabbiare Ma tu sei scemo Vabbè Tu sei una tettona Sì Non quanto Mount Lady però Oddio Secondo me Di sotto Ne ha proprio grosse Eh ma Sono tutte coperte Quindi non saprei Beh anche quelle di Mount Lady In realtà Sono coperte Beh un po' di meno Infatti la migliore È sempre Momo Che ce le ha scoperte Momo Mino arenne E la Taki Barat Però Momo Mino arenne Ma io vado verso di qua Comunque ti devo dire È molto bello Avere così tanti punti vita Pure Sì perché Tu ne hai 300 O 350 300 Eh cavolo Beh sono già due team In più Che devi prendere Per essere ucciso Beh diciamo una Visto che Bakugo Fa 110 Ah tu pensi Senza Bakugo Però come sei tossico Beh cavolo È tipo l'unico avversario Che si trova Sta prendo una cassa Glielo impediamo 128 Ci sta Guarda che divertente Bakugo Questo Bakugo Ora lo uccidiamo però No più che altro Fanno veramente arrabbiare Pandits Ti giuro Cioè fanno veramente arrabbiare Quelli con Bakugo 114 Ma l'ho distrutto L'ho tirato Doppletto col calcio Questo Bakugo C'è il totoro Che è fortissimo Vai a terra Così ti posso restare Faccio E ma lui Non lo posso restare Ora Allora Allora siamo Ma non uccidiamo Gli altri Ho perduto Questo è Tanto 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 111 al Bakugo Craccato 87 flash 87 flash Anche al Al Tanto 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 Ok Altro team Dietro Pandits Arrivano Tanto 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 Eh ma ho due Bakugo Ho due Bakugo Non posso fare niente No lo so C'era il Todoroki One shot C'è è noccato One shot Il Bakugo Ma veramente Sei baccato Chi dici ma che acquista Eh Ma perché a volte Non lo so Non lo so A volte fa tipo Tira di danni Vabbè Ma hai visto Cioè hai visto Quanti cazzo di danni fa Comunque No ma infatti Ma a volte Però non capisco Perché non colpisce Busta di piscio Busta di piscio Bakugo Noccato da Ibara Terribile Cioè immaginati Giocare il PG più rotto Del gioco E perdere contro Ibara Mi sa che non le hanno Eh mi sa di sì Secondo te vado a salvare I civili O provo ad aprire questa E beh No Super Mario tecnica No Sai la cosa bella Che puoi metterti Tipo a mezz'aria A hittare le persone Cioè non è Sì però In questo momento Però c'ha anche un Midoria Cavolo Sparano Eh ma perché mi confondo Con i cespugli Secondo me Hai un tipo Occhio Occhio che non ti hanno visto Occhio che ti ha visto Ma perché ti furono Non l'ho colpita Sei morto Secondo me sì È vero Cavolo Eh sono morto È vero è vero Grazie Mannaggia È sicurissimo Veramente tossico Ma veramente una pippa Più che altro Cioè professionista 4 Muore con 0k E quitta Però ho fatto i miei 2000 danni Mi chiamo a Più 3 Sì cazzo Grazie Mazzo Per la sub Premi nel link Per entrare nel gruppo telegram Grazie Mazzo Grazie per la sub Più 3 Let's go Comunque Il Bakugo Che perde l'1v1 Contro Ibar No Eh no Fabio Però stai scherzando C'ha pure la tua stessa skill Eh Fabio Guarda il mio rank Guarda il tuo dai Beh lui è professionista 5 Però molto bravo Fabio Tedesco È tedesco Non è italiano No Fabio Perché ti chiami Fabio Se non sei italiano Eh Riuserò Deku Vabbè Pur di tenere un random No ha cambiato anche lui Ora si rimette anche lui All Might Nice Dopo questa Sì Ricky Ma perché in verità Sta andando molto bene Con i random Cioè Siamo tipo aprendo E poi ci trovavamo Crisci Sai che io non sono mai Andato in negativo oggi Ci sta Io adesso E tu adesso Io in positivo anche in questa Più 3 Più 3 Secondo me All Might È veramente rotto Ho visto un gameplay E Ho un casino di data Salta Scusate Ma c'è Eminem C'è Eminem in partita E secondo me sì Ma come si chiama? Eminem Zero Trattino Zero Trattino Eh ma no Lui non si chiama Eminem Zero Trattino Zero Trattino Lui si chiama Eminem Ah Magari è suo fratello Può essere Junior Ciao Mortal Andiamo qua Ciao Mortal Ho trovato il mio nuovo main Mi è piaciuta veramente molto Immagino Ma che tu sappia All Might Che può prendere sulle spalle Si Può Fare Si può Ok Prendi i tuoi spalle Qui E Bakugou E ha aggiornato un giusto Bakugou Bakugou Fabio Ciao Che mi hai lasciato Volmente Sei stato gentilissimo Fabio Fabio Abbiamo un cemento Su una toga Sì Beh Noi abbiamo i pigirotti Contiene vari oggetti rari casuali E arrivo anch'io Cioè Cemento scontribare Tipo Il fight Per chi ha il supporto migliore Vabbè Craccato Minchia Allo start C'hanno tipo 120 di scudo Normale che li cracchi Arrivo Dai Pandits Vai a terra Per favore Dai Pandits No Lo voglio grabbare Devastata Che palle Ma la colpisco attraverso Ma è counter È counter di Kendo Ibar Lo sapevi? Oddio Ma questa cosa Me la fa piacere Ancora di più Eeeh Pandits A mia discorpa Ho le abilità 2 Cioè Ho un'abilità 2 E due E tre l'uno Sì ma sei molto tossico No Mi avete rubato Tipo tutti i K Ma non è vero Io Ma io non ti ho preso niente Pandits Questa l'ho daunata io Praticamente full Cioè Vabbè Cosa La candle L'ha buitata Un botto io Flash Sì ma prima S'era fullata Ma non si è fullata Se stavo facendo lo scuola Ma perché Ma io te Allora Tu lo noti Io te lo dico Sei sempre puoi iniziare a fare il tossico Ma non sto facendo il tossico Poi Ho preso una card Non ti ho preso la kill Ma hai preso No Una card Punto Eh no Io non ci sto Eh sì Da me Da me Io ero quel bastardo Fabio Madonna Che ha fatto Fabio di male Mi ha rubato il K1 Ma posso anche attraverso le robe di Dabi No penso sia stata una coincidenza credo Faccio la cura grossa per tutti Ti prego Godo tantissimo Todoroki colpito Poco Mi piaccio C'ha l'abilità al 7 Ho caduto Bafugo Eeeh Preso il Dabi E' fortissimo All Might No di quanto non l'ho grabbato Oh sì Anche io Ma perché Lui è stato tossico con te Ma no L'albero mi ha alloccato il colpo Bakugo Distrutto Distrutto Bakugo Bakugo Veramente distrutto Minchia ho distrutto Todoroki Mi devo fullare Faccio la cura grossa Vi carico con la cura grossa Vi carico con la cura grossa Prego Non riesco ad arampicarmi Grazie Devi tenere il premuto X Ne hanno restato uno con Cementos Ma veramente non l'ho colpito Ma che stai dire Perché non l'ho colpito Qua un shot è noccato No vabbè Troppo bello All Might Ci credo Coperto tipo Che figato Craccato il Bakugo Quasi Craccato il Bakugo Minchia Panditz Le sto prendendo tutte io Mi fullo Sto arrivando Distrutto il Bakugo Eh no C'è un All Might da me Riesci a restarmi? Fatto Te l'hanno già rissato eh Faccio full labbra per tu Grazie Quasi crack lo sciga No mi ha grabbato Minchia è stra difficile grabbare con Noccato anche l'altro Ma perché a volte non colpisco? Non capisco No vabbè Bakugo Non sa da dove No quel capo me lo lasci per favore Sì vattelo a confermare Fai la finisher Nico All Might Sono divertente Sì Sì Trojan Tu è fortissima Io non riesco a grabbare la gente Mi dà veramente fastidio È che devi essere molto vicino per farlo Cavolo Sì devi essere tipo attaccato Eh Eh ma non c'è E se vado attaccato mi scopano però Dipende Se ti brucia Bakugo con il suo L1 Lo offendi Davanti a me Davanti a me Davanti a me È il team di prima Momo Mi sa c'era anche Bakugo Momo Bakugo e Oshako forse Cioè vedi Minchia Se mi avvicino per fare No way Distrutta Craccata Oshako Finalmente Minchia con l'abilità l'1 Per di più Sto facendo la finisher Me l'hai interrotta Eh io finisco il mio Posso provare a fare i 6.000 danni Ce ne ho un sacco secondo me Cioè oddio un sacco no Però vorrei provare a fare danni Sì Poi fa tipo 80 a colpo A 12 colpi Minchia top 3 Sono fatti qua Eh non lo so È che ho 6K o più che altro Quindi forse dei danni ce li ho Però ne ho rubati parecchio al Bakugo Eh ma sono gli ultimi due team e sono qua Mi puzza mi puzza Occhio a quello a sinistra Da un ato Provo a confermarlo Vabbè Tossico 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 Dopo che io gli ho rubato i 10 Però ci sta Che pal Mi sono perso tutti i danni su quello noccato da me Me l'ha confermato full Ah l'ultimo team Sì sì Minchia Niente me li schivano tutti No way Non lo so Voglio farmi una cura grossa Prova a coprire là Ti prego Godo Distrutta No Minchia sai che forse Se faccio tanti danni su di loro Qua dentro Ma giro di sì Non lo so Potrebbe essere morto Beh se muori godo Pandez perché ti resto Uso un po' le mie abilità Grazie È molto utile adesso perché mi stanno proprio pushando Distrutta la Tsuyu No non sono riuscito a fotterla Peccato Perché a volte non colpisco Non capisco ti giuro È dissuto il Bakugo È tipo ora non l'ho colpito Al volo sarebbe stato molto bello Il Midoriya scappa tantissimo Possiamo provare a fargli risponare in caso Volendo sì Ma tu quanti che fai? Eh io sei Minchia li potevo fare i dieci Eh sì Secondo te l'hanno recuperata la Tsuyu Ah ma era a terra L'ha preso lui? Sì Sott'esmodone Eh vabbè gliele sono state rubate No vabbè 6.000 danni Ce ne avrò 3.000 di danni Sì Facciamoglielo responare Ne avevo veramente pochi di danni Ma il... Dove è qua? Eh è scappato Eh ma sopra la montagna Eh non lo so Però non credo Sarà in safe? No sopra la montagna non c'è L'ha scavalcata tutta Ma secondo me è dal nostro Perché lui continua Sì sì di sicuro Ah che pa... No dai Cavolo avevamo 6,6 e 7KO Ne abbiamo fatti 19 di squadra Eh di danni però ne avrò pochi Alla fine mi sa Cioè boh la partita è finita su Un fottio Un fottio? Bellissimo Almetto te lo consiglio da provare comunque Ma no io voglio mainare i bara Peccato No ma secondo me è 3.000 di danni Ma va 4.000 4.000 Io ho quasi 7.000 Minchia Minchia Boh ma c'è comunque Sì ma avendo il bakugointimi 6KO con i bara Non li faccio mai È impossibile Cioè tutti quelli che andavano a terra Minchia spamma l'R2 4 volte Si prende la conferma full Cioè è impossibile È veramente impossibile Perché mi dà che ho una Missione Però non la trovo Che missione ho? Completato Boh Mi continua a dare con una missione Però le ho fatte tutte Mannaggia Minchia Riki Che agonia Invitiamolo Pandizio sono costretto a invitare Riki Perché se no È perché spamma Continua a spammare È lo silenzio se spamma È no È non hai fatto il tuo lavoro di modda Vabbè Facciamo un paio di partite Non è vero Sto scherzando Vabbè lo silenzio comunque Perché è antipatico Ah ok Ci sta Ci sono entrati due persone nel club Aspetta Nell'agenzia Aspetta un attimo Vediamo Ma pure in porti No in porti No Ah beh Agenzia livello 9 Buono Ah ma noi stiamo continuando a donare solamente uffici Ci sta Vabbè E vanno in entrano più persone Più persone entrano Più persone entrano Più persone donano Grazie J per la sub Premi il link per entrare nel gruppo telegram Eh sì Però Vediamo gli inattivi Stackage 3 giorni Pandiz Espelli Lui e anche Gix sono ciao Ok Vediamo gli altri inattivi Gix sono ciao 4 giorni Ciao C'è anche maffo Ho visto Matt Legend Due giorni Sì Espelli Vediamo che rank è Anche Max Matt Legend è professionista 2 Lo lascio per il momento Non importa Un bakug Sko Max Principiante 1 Via poi Ok Ma anche l'altro è Matt Cioè non mi interessa Anche Se poi vogliono entrare Scrivono in chat Beh sì Maffo King anche Sì Grazie Marco Per la risab Ciao Nico Va bene ragazzi Ho liberato un po' di posti Kiccando gli inattivi Se volete Ci sono dei posti liberi in agenzia Questo è l'ID È il nome Fate screenshots Così poi non lo richiedete E buona Buona la prima Buona la prima Però Bandits Sei veramente tossico Puoi andare a terra Per favore Ma te lo giuro È stato stradivertente Con All Might No vai a terra Che devo fare i res Con Ibar Ma no Secondo te qual è la missione Di Ibar Per il banner Per il badge Ti può restare Cento volte lì Che Cavolo Però No Ibar è una cazzata Da usare Oddio Sì È oggettivo Cioè È una cazzata E non riesce a restare I tuoi team Non andate a terra Cavolo Pandits Stasera Devo giocare ad Apex Bel gioco Te lo consiglio Sì Io devo studiare Io devo giocare ad Apex Sì Ma auguratamente Secondo me così è perfetto Pomeriggio a Mairo Di sera Apex Eh ci sta Però Sì 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 Cioè so che tu vorresti giocare solo a Mairo Però ora è andata molto bene Dobbiamo fare Dobbiamo fare sempre così tanti punti Perché io devo recuperare un sacco di top Ma lo invitiamo in party o no alla fine? Ma no Cioè è tuo il party decidi tu No l'hai startato tu No è tuo Sì ma sei tu il proprietario È il party di Federico Ma non è vero C'è scritto party di Federico Come si cede il proprietario del party Aspetta E c'è scritto un po' del proprietario A fianco al tuo nome Ma chi è Federico? Chi è questo Federico? Io non lo conosco Immaginatevi Prima o poi tipo Banna nostra roba Che puoi cambiarti il nome E rimani con Federico Beh saremo Un documento E niente Beh Finito così Ci sta Con chi gioco stasera ad Apex Boh Con i random Non lo so Lo scopriremo Dei team mate Va bene consigliami Allora Davidotti Non lo so se voglio giocarci ad Apex Dopo che lui ci ha paccato su Mayro Però eh Ah ok Allora ti consiglio G-Shadow Che non si sente tipo Donna Ma G-Shadow è diventato Main Rainbow Six Penso Ah Allora ti consiglio Stack Ma Stack Non so se c'è Ah Ti consiglio Cioè non c'è mai Cioè non c'è mai Cioè non c'è mai Cioè non c'è mai Cavolo Ehm Altre proposte Ehm Sì Karma Ok Karma mi piace Karma e Z Che farei io tipo Il team delle private Sì è vero Sì è vero E Dallo Ma per cosa Ma io vorrei giocare Sopra la mappa però Ah allora solo Shine Ok Ma cioè vuoi giocare Legit o no Sì Sì Allora ti consiglio Prizzi Ok Ecco il bo Cioè ma quanto è spesso All Might Beh sì Oh ho fatto un saltello Ciao Ricky Che si saluta Comunque E poi mi sa Che Panditz Verso le 23 Tipo Andrò su Myrultra Rumble Con i random In pub A fare le 10 kill Su Ipara Bello No ma con i random Cioè Tu non le hai fatte con i random Scusa Sì ma Se giocavi con noi Se le lasciavamo direttamente Con i random Dove si fanno anche i doll E con i bar Non è facile Eh no è molto difficile E anche altro Che le 20 Su due App Bella questa Era proprio divertente Sì Era una battuta Oh ti ho lasciato due power up Panditz Io te ne lascio uno Tre power up ti ho lasciato Anzi Ce ne sono altri due Ladietro Spero tu li abbia visti Sì Prego Guarda Guarda Grazie mille Ringo Sei proprio gentile Prego Ma in pubblica Le lobby vanno giù lentamente Cioè Si riescono a fare I 10 kill Panditz Poi io l'ho fatto I conto Loro che Prende Tutti di corsa Inizia tipo subito A partire Perché busciavo Chiunque Ci sta Sopra non c'è nessuno Ok Ma hai già luttato Sì Mi serve uno zaino Trovato Camminare Oh ma sono scigarati dietro Anche un cemento Beh Mi fa piacere Andate a terra Ok Dai Panditz Puscia che Puscia che tira esso Tanto E' un'altra Bellissimo Straccato Cementos Distrutto Eh certo Sono quasi andato a terra Morto C'è un altro qua L'ha già rianimato Li ho distrutti tutti Li ho distrutti tutti Ok vai Davonato uno Eh certo Con cementos Eh sì Sì Ah già giusto Noccato Bakugo Lo fa nel chilo se lo trovo Ok Eh aiuto C'è un cemento sta me Prima Ah che male Ma Io voglio fare la finisher sul mio Ma uno è a terra Sì sto cercando di fare la finisher da due ore Sto tiltando Mica ti finisco così Bastardo Se non ti fai confermare Codo Mica il cemento Stava lì con l'asciugamanino Per non far confermare il suo teammate Cristo dai Avete cura generale? La sto facendo Sì cura io Vi fullo io Ma la sto facendo anch'io Vabbè falla anche tu se vuoi Eh l'ho fatto questo Cementos Con l'asciugamanino A tirarmi le costruzioni Per non farmi finire la conferma E l'ho fatta lo stesso Ma ci sta No non ci stavo Levo fare la cazzo di finisher Tossico Cioè quello poteva pensare Piuttosto a fightare con voi Visto che poi ha preso la ciole Dai Forco due Tranquillo vai a terra Vai a terra Vai a terra Distrutto il Todoroki Lo knock In teoria Dai una tolto il Todoroki Come mi avevi detto Però Ricky Sei veramente Fai schifo Ricky Sei tossico a merda Io te l'ho detto Ma cosa pensavo Che stavi Dovevi lasciarlo Ma ci Ma lo resto con triangolo Figa Che cazzo vuol dire Ci godo Ma ci godo Panditz posso godere? Panditz posso godere? Minchia Ricky Che durante il fight Si butta fulla A prendere la conferma Minchia Ma che ne so Pensavo che stessi fightando Me lo sono presa Che madonna Che tossico Panditz è tutto il giorno Che tra di noi Non facciamo i tossici Arriva lui E si inizia subito Non lo posso prendere Mi spalla Mi ha mentito Ma vabbè Tanto 30 secondi Mamma mia Già qui Barra come mi trovo Molto bene È molto forte Dietro di te Ma da dove è? Guardate Un enemy Attaquo Io non leggermente Devo imparare o se è Sto a cosa? No Non ci credo Ma da dove Mi pucia per la conferma Io sono morto direttamente Panditz che riesci Amico Sì Ho provato Ho poche cure Provo a fare lo scudo di gruppo Tra poco Se riesci sì No non riesco Non riesco Sono morto Full team No dai Morto no Sì minchia Ho un full team Ho distrutto la Oshako Ma Oshako one shot Eh no in verità Panditz Non mi stai difendendo Quasi crack li bara Sono morto Ma perché non l'ho colpito? No way Minchia Ah ma io potrei risparmi Sì Hai pure il plus ultra Cioè se ti riesci a fullare Ci recuperi Ci respawni C'hai il plus ultra Eh non ho pure per fullarmi Infatti Mi salterò verso di te No non è vero Il salto lo tengo Sì lo potrebbe sempre essere utile in futuro Esatto Non si sa mai Cosa ti riserverà questa partita Oh grazie Nico Prego Tranquillo Nico devi fare la sfida quella dei 300 like Eh? Ma mi sa l'ho fatta La sfida quella dei 300 like Ma no l'ho fatta Bravo Panditz L'hai mancato mi sa Però di poco Ma direi che lo vado a prendere Non penso aspettare Eh sì ci sta Anche perché non ho più cura Una buona scelta Però di tanto carico Vai qua Ci potresti anche rispawnare qua sopra tipo Ma sì sì è quello che volevo fare Almeno scendiamo Mamma mia Sì c'è un full team Però fai di tu Vabbè si fa Vabbè si fa Vai da me Ti prova 60 Qua di rotto il Deku Manshot il Deku Da auto scarico Cento Nico dietro Straccata Daonato il Deku E però niente Snaccata a Oshako Vado a cercare il Deku Per fare la finisher Vai Panditz Ti ho lasciato Anche una Vibili Niente Eh Panditz mi devi Ingrabbare E portarmi in safe Se riesci Vai verso la safe Vai verso la safe Il Deku verrà arrestato Hai cura scudo grandi Eh no Però aspetta vi posso far la cura full Falla 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 Non ci credo E poi si pushano Ma mi dè che ci hai portato un team Adesso ci hai portato e moriamo No 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 Sei veramente stato tosse Cavolo peccato Io non ho preso una kill Peccato Eh cavolo Panditz Io uno L'avevo downato Ma non l'ho preso Il Midori è stato arrestato Non so Davanti Davanti No 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 Ma che palle Ma mi son rotto il cazzo Mi son rotto Cioè figa È il terzo che mi viene rubato In sta partita C'era il Todoroso Ok ma è il terzo In sta partita È il terzo Cioè Fosse il primo Figa Cioè Boh Io devo stare con una kill E andare in negativo Eh Eh son morto Ma che devo prendere Che è fuori safe Che devo prendere Cioè non riesco a prenderlo Ah che palle One shot del Todoroki Vi curo vita a tutti Eh resisto Un era one shot L'altro che accade L'ultimo team Midori è davanti Se li lascio Distrusse Non ho nato il Midori Vai qua Fai questo Dai L'ultimo Toccallo Tuonico Porco cazzo Ma fallo entrare Fallo entrare Vabbè Cioè era meglio Farlo entrare direttamente Cioè Nico Non l'ho fatto apposta Eh lo so Ma mi ha fatto veramente tiltare Perché era appena Cioè me l'aveva appena Anche rubato i Riki Ero a una kill Avendone i noccati tre Cioè avendone i noccati quattro Anzi Ero a una kill Avendone i noccati quattro Eh sì Proprio bello All Might comunque Sì Ma anche Ipara Molto forte Molto divertente 5400 danni Vicchia Ciao Jake La peggiore Però posso dire Pandits è quella di Riki Me ne noccuno full E vedo Riki Che spara nove colpi Del fottuto Todoroki Per confermarlo immediatamente E fa Eh ma pensavo Dovessi restare Pandits Che figa Premo un tasto E ti resto Ci metto tipo 0.5 secondi Ariani Martin Mamma mia Ma questo è il motivo Per cui fa cagare Giocare i support Perché ci metti Dove era confermare Quindi ti vengono rubate tutte È orribile È veramente brutto Voglio provare ora Raka Giocare i support È bruttissimo Perché non prendi Mai nessuno È impossibile Quindi se hai Momo Hai tutte le kill Con il beta Beh no Con l'alfa No vabbè Sì quando li kill Però che gli vai addosso Con la beta Gli fai addosso Cioè proprio Lo spondi Cioè te la prendi Te la kill Beh vabbè La conferma Con un colpo solo No No però No 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 Allora Hai presente Non il muro Eh Se vai addosso Un nemico a terra Con il muro Praticamente te lo trascini avanti Nel frattempo Gli fai dandi Quindi te lo prendi te Beh Do camminare Momo Ciao Eccomi Sono Ibar Ciao Ibar Quanti punti Mi mancano Quasi ne abbiamo fatti Una fraga Eh ora ti dico quanto Era a 94 Eh io ne ho fatti di meno Però vediamo quanti Quando ti manca Per il fenomeno Ma no Ma non puoi Solo 6000 Ne ho fatti C'è il fenomeno Vabbè Quello Ah minchia 6000 ne ho fatti Ho fatto 10.000 punti Dal fenomeno Easy Minchia Perché Nico Devi sapere che dopo che prendi il fenomeno Tipo ti dice i punti che hai fatto Da quando sei diventato fenomeno Ah ebbè ci sta Sì Ora sono tipo a 10.000 sopra Io sto a 100.000 Il fenomeno Cioè il fenomeno Il robo La top 1000 Sta a 109 Devo fare 9.000 punti Fattibile Eh sì Stasera faccio qualche game con i random Vediamo se Faccio qualche punticino No Stasera Apex E dopo Apex? No Stasera Apex Eh sì Però cavolo Faccio Apex Fino alle 21 Apex fino alle 21? Sì In che senso? No Apex dalle 21 scusa Ah infatti Sì Tipo facevi dalle 20 alle 21 Apex Dalle 21 alle 2 Di notte Beh Ne sarei capace Ne sarei sinceramente capace Lo potrei fare tranquillamente Non lo farò Forse Però potrei Perché su Mairo Devo veramente scalare tante top E ho capito Ma Mairo C'ho la motivazione Devo scalare le top Su Apex Bisogna aspettare la fine della stagione Poi c'ho il Mite C'ho solo Tornado Dico che è top Cioè Sono un po' strittato Tornado E fa anche danno Nice Boh A me Ibarra sta piacendo veramente tanto E guarda che Non c'ho bene Mi piace la mia rotazione No L'est Grazie Ma la cosa più bella di Bara finora è che trapassa gli scudi Mi sta piacendo un sacco sta cosa O fai il salto pandis con la gravità zero Minchia il salto di Allmate con la gravità zero dove arriva? No è praticamente volare Ho visto un tiktok Minchia ma non finisci Moia Io non sto andando a terra Cioè Minchia È da riprovare Tra quanto ce l'hai Eh però Praticamente Vai Vediamo Please Reconsidio Please Reconsidio Minchia Oh non c'è di più Va Minchia Ma ci sono schermate di caricamento con Ibarra? Eh forse No Ma chi sarà il culo? Ma vai Best wife Comunque che roba che l'ho trovata con una pool singola Minchia che culo Giusto ieri la vuole Eh appunto Giusto ieri l'avevo provata Ho detto mi piace un sacco Domani la meno Ah Nico ma non ce l'hai Ah cazzo è vero Niente Eh Minchia davvero Che culo Ieri mi era piaciuto un casino Ho detto la meno No cazzo non ce l'ho E ora con l'unico biglietto che ti sei preso Ti puoi prendere chi riusci Esatto Non è vero Mi manca anche Ida Ma sei serio? No E anche Chi era l'altro? Ida Kaminari E chi è il terzo che si sblocca? Kendo mi fa Ah il Kendo anche E allora anche Kendo mi manca Kendo Kendo Ho detto se ne so Ho 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 Penso di sì E là aspetta Uno l'altro Mi fullo Ma non so in verità se Eh sì Avevo visto Meglio Ibarra Ho una carta per te Eccomi Grazie Grazie Medici Mentos Io andrei lì davanti Ah sì Sto andando a prendere sta roba A me va bene tutto Ho una roba per Panditz Una card per Panditz Mi push al Bakugo Ho una card per l'alpha per Panditz Craccato lo Shigaraki 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 Distrutto lo Shigaraki Bakugo colpito poco Davanti a me tutti e tre Craccato il Bakugo Dietro di me Un Todoroki Dietro di me anche il Todoroki Però E provo ad arrivare da voi Mi finisco la cura Ce n'è uno dietro di voi Midoriya Oh da te Panditz Colpito il Midoriya Craccato il Bakugo Capuscio Tornati davanti a me Distrutto il Midoriya Ma veramente non l'ho colpito Craccato il Bakugo Questo qua me lo distruggo Manca un hit Scusa ma Questa è la mia victoria Braccato Mi ha fatto una Divina punizione No way Oh tutto Todoroki Fammi pullare sto scudo Todoroki Avanti Hanno le chiavi Devono rompere i coglioni suonando Minchia ma Niente Sono stato stalloccato Non capisco da cosa Non riesco a capire Ricky avvicinati che ti resta Se vai a terra ovviamente Nico ha una card di livello 30 Per quale? Non per l'alfa spero E Y Oh godo Molto bella Davanti qua un Todoroki Arrivo Sto arrivando anch'io Non li vedo più Craccato L'ho perso Ma se avete le chiavi Perché non ha pite? Qua davanti Qua davanti Io vado qua Distrutti? Minchia ho fatto un batto di danni Che bello che è Che bello che è questo attacco Però anche dietro C'è una Mount Lady enorme Aiuto Va da voi godo Ho zero scudi Ma tipo io da qua la colpisco C'è anche un Midoria dietro da me Disgustivo Carcato il Midoria Distrutto il Midoria C'ha tipo uno di vita Però c'è anche la Mount Lady Aiuto Distrutta anche la Mount Lady È quasi one shot È anche io Provo a fare la cura di gruppo Sono morto Sono morto 74 Colpito No da dove? Il Todoroki là sopra Eh C'era un Todoroki sopra Peccato No 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 Confermato da un altro Todoroki Minchia Eh niente C'avevo quattro adotte C'è Paul E il tifo Nico Eh Ho colpito Ho noccato da un Todoroki Confermato da un altro Todoroki Sì 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 Penso di sì In verità Non è che non ho più cure Eh No dai Ma come Madonna Che bella mira Bella mira Bella mira Fratello Porca due Grande Complimenti Il Todoroki Che mi ha confermato Era uno in solo Di qua Che palle Che palle Vabbè Sono carino Però Raga Io accetto Questo Wondervo Item Beh Più 200 Cioè Più 219 In verità Io Più 300 Minchia Notifiche Mi sa che l'agenzia Si è già riempita Cosa Niente Ok Andrea Angelo Minchia 6 persone attive Ora nell'agenzia Pandits Beh Uno tu Uno io Uno Ricky Dovrebbero mettere un modo Per spammare i like Più velocemente Dovrebbero mettere un modo Per spammare i like Più veloce Alla gente dentro l'agenzia Ciao Stakech Perché mi hai scritto Ma ti svegli Ma perché mi chiedi Stasera Apex Quando Cioè Nella storia In cui letteralmente Cioè Dico Apex Alle 21 Sì Eh sì Stavo spammando i like A quelli dell'agenzia Cosa che dovresti fare anche tu Ma ci sta Minchia Stakech Indovina le ore di gioco Di Pandits Su Mayr Ultra Rumble Dopo 10 giorni Dall'uscita del gioco Ma non è mai vero Non ho mai giocato 5 ore al giorno Oggi E l'altro giorno E basta Va vai Stai zitto L'altra volta Ci ho giocato 3 ore massimo Ma quante ore hai Infatti non ha senso Pagliaccio Ha 61 ore di gioco 61 Ma neanche Oggi stiamo giocando Da 2 ore e 40 Cioè il massimo che gioco Ma sì 2 o 3 più di tecnico Non so come sia possibile Pandits pagliaccio Io 44 Ma hai buggato Ma hai buggato È impossibile Ma avrei pure tu 50 E non c'è mai gioco Ma che cazzo dici Dai 44 o no io E ci sta E io 47 Mi pare Ma invece sì Sì È vero Ma ti giuro Pandits È impossibile È buggato Ma no Pandits Ti giuro Minchia Dai che se sta partita va bene Ne faccio il professionista 5 Quella Finalmente Eh già Finalmente Poi mi manca un altro rank Cioè ti stai recuperando Ma se ha più ore di gioco di me Sta il rank più basso Pandits Ma ti svegli Ma minchia Gioco letteralmente Un'ora barra di ora al giorno E mai più ore di me E mai più ore di me Che c'è Eh non so Non so come sia possibile No Sì Perché è buggato Ma non è buggato Ma non è No ma non posso avere 47 ore È impossibile Chiaramente Ci ho giocato meno di voi Va E andiamo subito ad aerea Fra No no Buttiamo qua No vabbè ma ci andrà un team di collina Ma ci va anche il team di collina Eh lo so Mi dispiace Vai pure Ma hai sbloccato il Might Pandits Ah cavolo Pandits è un'abilità per te Ma il tuo nuovo main Guarda dove sono Per ora mi sa molto piacendo Molto forte Anche divertente Ma tu cambi main un po' troppo spesso però Ah ma cambiato C'è anche stato main all Might Beh Cioè Thank goodness Ma boh Non c'è nessuno Ma hai aperto la cassa Pandits Eh No l'ha aperto la mia Ma non è vero No l'ha aperto Pandits E ti si Mica c'hai l'abilità al 7 Pandits Sei un pagliaccio 8 adesso Sei un pagliaccio Sei preso tutto il loot della cassa 8 adesso Sei preso tutto il loot della cassa Che pagliaccio Che pagliaccio Vabbè minchia mi dovete svegliare Che pagliaccio Che pagliaccio Ho una carta per te Nico Almeno ti fai l'abilità al 9 come gioia Minchia C'è un'abilità per quelli rossi Livello 6 Oh sì C'è Nico Avviso ti ho raggiunto Sì Ma c'è gente sopra? No sotto Sì Eh Nico Qua sotto sì Sì ha la cassa Sì Ma infatti io vado da loro io Qua davanti a me Toccato Davanti a me apri la cassa Gliele interrompo Godo Colpito poco Craccato 103 pesce Faccio la cura grande Noccato Todoroki Sto finendo la cura Pandiz Distrutto il Bakugo Io noccato Todoroki Faccio un'altra cura grande Ce l'ho confermato Bakugo distrutto di nuovo Arrivo Pandiz Ma lo prendo Lo prendo Lo prendo È andato in plus ultra Non lo prendo più Occhio Ma sto continuando a distruggerlo Aspetta che se lo gaffo lo uccido Madonna te Con Uraraka non mi mettere quella fottuta gravità Io la odio Ok Da unato Andiamo da pulire il drop va Vabbè ho sentito non dato L'ho lasciato Sì Io manco io ho sparato Beh anche perché cavolo L'avevo fatto full io E poi è andato in plus ultra E l'ho fatto full io di nuovo Sarebbe stato molto brutto Non prenderlo Eh sì Ho preso io il bibitone Lo faccio C'è un'altra cassa qua davanti La stanno aprendo Puoi andare a terra Pundits tranquillo Però non se vado a terra io cavolo Se vado a terra io no Faccio la cura grossa Faita E che è grasciato Sì lo so Da unato il Bakugo Questo deve pushare solo me Ci sta Ma se tipo combattesse anche voi Ci starebbe Secondo me Non lo so Ma come ha fatto a risarmi Come ha fatto Ma No vabbè Secondo me ce la fai Non lo so Sì 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 No Che fa No Io non sopporto Diego e Bakugo insieme Porco due Che fastidio Non sanno usare dei personaggi di C Ti prego 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 Vado a restare Pundits Ti vado a prendere la cara Pundits Godo Bakugo scopato da Ibar Classico Ti vado a restare qua Pundits così ti puoi prendere la roba Sì ma Grossa No no aspetta ma ce la fai Vabbè Anche perché quel Bakugo non so manco come sia stato rianimato sinceramente Gliel'avevo interrotto Rikki 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 Eh ma c'è la safe e poi vai a pusciare un Todoroki Ma la safe era pure ferma Non andare in mezzo Ci sono entrambi i team lì eh Non andare in mezzo a un Todoroki e un Deku magari con la tua abilità Cioè li hai letteralmente pushati tu Poggio di protezione Mh 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 Come Mh 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 ma porco 2 che cazzo mi confermi ti prego ok distrutto e nico non ho cure e ne ho pochissime cioè non so ma così mi posso parlare ma pure scudo te le posso mollare non prendetemi la card sono accresciato pure scudo te le posso dare pandit se vieni da me te le do che posso dare due scudi grandi distrutto io non vedo la safe ma come non vedi la safe ma che vuol dire non la vedi non la vedo cioè io vedo che ma che bug è scusa che non vedi la safe ma che cazzo mi sto fullando non ho res ancora ma io non vedo la safe ci sono per morire di nuovo io sono morto ce li ho tutti qua posso fare niente ma ricky posso sapere perché nel party sfasci sempre casa che tipo si sente un botto di casino è mio fratello ah ok risolto il mistero avevo questo dubbio da ieri provaci pandit cioè provaci buona fortuna cerca di fare più danni possibili ma sono di nuovo fuori safe sii ma che cazzo vuol dire non la vedi lo capisco sto bug io non la vedo non la vedo io non vedo che sono fuori safe ma non vedi proprio cioè ma neanche dalla mappa dalla minimappa si ma non guarda la minimappa mentre scappa da un bacco che mi spara ma vabbè ci sta insomma ho una card una sola cazzo ma c'è qua una card c'è la card respawn sicuramente servirà molto ma sono di nuovo fuori safe vabbè ma è molto divertente todoroki bakugo todoroki o al magico ah era l'ultimo team purac si 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 vabbè allora va bene pensavo avessero tipo schifato il loro fight per venir a fucire no 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 ma ma ti era già capitato il bug della safe no 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 adesso abbiamo respawnato lì che non vedo più la safe vabbè nuovo bug dai ah no si mi è già capitato a me ma vabbè 4.000 danni 2 ko eh potete rinvitare no ok sono 220 dal fuoriclasse 5 niente non vedo quanti punti ho perso ma sei nei persi ma va meno 241 avevo solo un ko vabbè pochissime danni io invece ho fatto più 500 tipo no cazzo detto boh non so però avevo tanti danni ibar è troppo forte ibar è troppo potente molto divertente a posto e Ricky è entrato mentre guardavo le notifiche devo riavviare mannaggia che bug di merda eh che odioso sto guarda è stata sciolta che odioso sto bug minchia stavo cancellando le notifiche hero ultra rumble giustamente eh chissà se lo sanno loro di questo bug dubito comunque divertente come Ricky prima non mi ha risponato quando era tutto libero che potevo anche riprendermi il loot perché dice c'era la safe che non era manco partita per poi andare a pushare un Todoroki e fightarlo per poi scappare pushare un Todoroki un Bakugo per poi scappare perché mi stavo lamentando il fatto che ha pushato da sola cioè divertente beh ci sta profilo e poi ha il coraggio di dire ma cosa devo fare mi mancano 220 punti ciao io lo metto pronto e arrivo subito ciao io ho 200 partite bene visto chi sta però in verità conta solo le partite in ranked GG Ricky ne hai 212 tu vedi che ne hai di più zitto 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 incredibile pandiz ne ha come ti ha messo in top di like tu che vuoi vedere ah pandiz hai 228 vabbè ma pandiz è pandiz tu 1300 ah ne hai sorpassato GG vabbè la top dei like inutile ma tipo il primo da playstation è la cosa più buona vabbè ma perché il primo adesso tutti gli vanno a mettere il like perché lo vedono prima non verrà mai superato è impossibile dai Nico sei quasi millesimo quanto sono 1097 cavolo minchia eh dai si può fare se solo la gente nella nostra agenzia spammasse i like pandiz 6 goal si se se eh si io punto almeno la top 100 almeno quella dei like come sei messo in top top ranked decimo beh decimo tu pandiz hai 60 partite in ranked in più di me ci sto si si onesto si 60 partite sono molte azzale beh sono 60 beh minchia cioè sono tantissime sono veramente tante io finisco la partita devo andare a mangiare va bene andrò a mangiare anche io allora io credo Enrique come un random tu cosa mangi i pandiz sento odore di carne immagino tipo un bollito che schifo il bollito mi fa veramente schifo ma io non sono solito a mangiare carne non mi fa tipo di carne ma c'è un po' di impanata beh è molto buona mi piace ma è buona non lo so il bollito è proprio la mia cottura di carne che mi fa più schifo io sono tipo più la pasta eh sì a te piace la pasta al tonno col parmigiano allora solo col tonno sì cioè dipende allora col parmigiano sì ma col grana no ci sta niente da dire uno dei miei sughi preferiti era che lo prendevo in un ristorante vicino a casa mia è pasta con tonno piselli e salsa d'acciughe molto buona buonissima buonissima pandiz abbiamo un Todoroki qua che devo fare? pensa inizia tranquillo pandiz ti posso rianimare ah ero crashato ti hanno congelato con Todoroki che ti hanno fatto ah ma si è crashato del tutto? eh probabilmente tra poco riuscirò dal party tra poco vorrei dal game quindi vado a pushare tutti ci sta eccolo chiamato eh sono riusciti a scappare vado quanto è bello scappare con ora arriva eh vado non c'è io ho una su io full guardate l'unico è attaccato no 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 terribile che palle Tsuyu la odio minchia minchia Tsuyu minchia Tsuyu no perché non va vabbè la sto asfaltando infatti scappa let's go ti vedo ti vedo ma c'era Tsuyu qua da me pure no perché non la prendo tagli finalmente non l'ho noccata però l'ho colpita molto ancora e niente e però c'è il Todoroki ovviamente io ce l'avrei ma non posso farlo no ma Tsuyu ho rotto le palle dai vabbè da abito Todoroki buongiorno Rosimo buongiorno che palle pandits che crasha e ci fa andare in negativo pandits che crasha e ci fa andare in negativo bruttissimo pandits che crasha e ci fa andare in negativo bruttissimo imbarazzante pandits crasha e fa andare in negativo di 500 mamma mia 544 che infame e no io 471 sarebbe stato di meno se quella Tsuyu non fosse scappata ai 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 ma che i pandits tu 900 eh complimenti pandits però sei stato veramente 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 tossico perché cavolo cioè sei crashato proprio all'inizio della partita un 500 peccato no che cavolo dovevo vedere se avevo punti eccomi oggi ho fatto quanti punti vabbè superato i 100.000 pandits di punti ho fatto sei no di più forse 7.000 punti tipo oggi molto buono per essere stato cioè per aver giocato i bar che è un nuovo main ciao davidotti sono stato appena aggredito da uno di un gruppo cazzo di telegram dicendo che citto ciao godo beh giochi la avoc su apex sicuramente citti ma poi ancora con quel gioco ma ti svegli ma passi a un gioco vivo invece di quel gioco morto dai per favore stacco con il 99 vabbè che c'entra eh io stasera le 21 su apex sarà molto difficile dopo un'altra settimana dall'ultima volta il primo con più like minchia va bene a più del cioè tipo il doppio del secondo il primo con più like imbattibile imbattibile beh anche gli altri cioè tipo quello non verrà mai recuperato proprio è proprio impossibile ma in che gruppo davidotti è possibile eh no minchia ce n'ha più del doppio cioè non si può è impossibile roxas eh sì beh c'è tipo 10 persone che ogni ogni secondo ti mettono eh appunto eh beh però trovarle eh beh minchia però gioca i bara quindi ci sta ma tra l'altro è cioè no no flame però è scarso cioè il primo per più like cavolo c'ha 100 partite 90 ko c'ha il kd negativo record danni 3000 media danni 1000 mannaggia però è veramente popolare eh sì però è veramente popolare ci sta le mie pubblicità e forse eh sì me ne era scaduta una bisogna ritrasmetterla trasmetti 10.000 sono pieno di monete adesso va bene ci vediamo ciao Enrique no Kratos sto staccando riattaccherò questa sera le 21 con Apex poi probabilmente verso le 23 23.30 arrivato su Mairo e si va con i random a fare i 10k su Ibara che voglio fare i 10k su Ibara ehm allora aspetta vediamo troviamo qualcuno online nella categoria di Mairo ultra ramboli in Italia per startare il ride e vado tipo è che mi sta molto simpatico ora idiamo questa ok ora vi faccio partire il ride e corro corro minchia cioè in verità con molta calma ehm beh è molto bello studiare storia più bello di studiare altre materie nienta ci metto dura a far partire il ride perché mi si era disconnesso OBS dal mio account di ora in teoria l'ho riconnesso perfetto buono a stasera incredibilmente stasera con Apex all'e21 sarà terribile sarà veramente terribile quindi ci vediamo alle 9 sì alle 9 con Apex Legends poi alle 23 di nuovo Mairo con i random nelle pubbliche non nelle ranked a fare i 10k con Ibarra obiettivo di questa sera buona serata vuoi un cheat in team su Apex sì va bene però solo se giochi con i cheat attaccati così carri che io sono una busta su Apex adesso cioè capito io ho mollato Apex per andare su Mairo perché su Apex non riuscivo più a giocare come un tempo capito Davidotti cioè eh sì eh sì eh sì ti provi ma sì dai poi hai Mirage mi resti da invisibile cavolo eh buona buona cena buona cena buona cena